Pareggio in campo ma vittoria del Foggia sul piano del gioco e forse domani sarà già polemica. La zona di Zeeman ha avuto la meglio sulla zona di Orrico. Ma era anche logico dal momento che le squadra pugliese ha ormai assimilato da tempo gli schemi mentre gli interisti sono ancora in fase digestiva. Ha vinto lo spettacolo, 90 minuti giocati a gran carriera con continui rovesciamenti di fronte e un Foggia per nulla intimorito davanti ad avversari di gran nome. Se qualcuno alla vigilia dava per scontata la vittoria dell'Inter questo non era certamente un ricco. Sentiamolo al microfono di Paola Ferrari. Foggia lo conoscevano, non mi ha sorpreso per niente. Casomai mi ha sorpreso direi la vehemenza con cui l'Inter ha cercato la vittoria a tutti i costi. Della squadra di Zeeman si sapeva che avrebbe giocato un buon calcio ma non certamente che avrebbe giocato a San Siro con tanta sfrontatezza. Quattro difensori in linea, tre centrocampisti e davanti la premiata dita Rambaudi, Baiano, Signori a far vedere i risorci verdi a Bergomi e compagni. Il primo tempo è stato tatticamente perfetto, quasi una partita a scacchi. La maggior pressione dei Nerazzurri, affidata a lancia ed apertura di un Mataus ancora non al meglio e dalle folate sulla fascia di un ritrovato Fontolanco, è stata bilanciata da azioni anche travolgenti che gli ospiti hanno portato avanti con dieci uomini raccolti in 30 metri, così come vuole la zona pura di Zeeman. Ma non direi che abbiamo dato lezione, noi abbiamo cercato di giocare il nostro, io sono contento se a qualcuno è piaciuto come gioca la squadra e speriamo di poter migliorare e dare altre soddisfazioni ai nostri tifosi e a quelli che ci vengono a vedere. E la costanza del Foggia è stata premiata dal gol di Baiano, giunto a conclusione di uno schema ben collaudato. Orrico, che in apertura di ripresa aveva lasciato negli spogliatoi Battistini, rilanciando Berti a sostegno di Klisman, si è quindi visto costretto a gettare nella mischia un'altra punta, Ciocci, al posto di un evanescente Pizzi. E per alcuni minuti la difesa Nerazzurra ha ballato come emette lo stesso Ferri. Dall'inserimento di Ciocci e di Berti, giustamente, visto il risultato di 1-0 a favore del Foggia, ha spostato un po' il baricentro in avanti, di conseguenza noi dietro abbiamo rischiato qualcosa in più. Però tutto sommato, rispetto alle prime partite abbiamo fatto passi del gigante. Ma con il trascorrere dei minuti gli interisti hanno nuovamente registrato la manovra e grazie anche ad un vigore atletico notevole hanno letteralmente assediato Mancini che ha dimostrato di possedere notevoli dotti acrobatiche. Ed è arrivato il meritato pareggio con Ciocci. L'ultima mezz'ora è stata ancora di marca interista, ma i tentativi delle punte si sono infranti davanti a un ottimo Mancini. Chi apprezza il calcio come spettacolo ha lasciato soddisfatto il Meazza. I tifosi più accaniti non hanno invece risparmiato qualche fischio, dimenticando che i loro beniamini hanno ancora bisogno di tempo per cambiare definitivamente mentalità e schemi. Ma non vanno sminuiti i meriti di un Foggia sbarazzino che ha dimostrato di non soffrire complessi di inferiorità. Come ha dichiarato uno dei tanti esordienti in Serie A, il difensore Ettore Matrecano, spietato marcatore di Klisman. Siamo usciti nella distanza anche perché, non so, forse un po' il caldo, un po' l'Inter è scesa. Allora il Foggia ha reagito e ha reagito alla grande e siamo stati premiati sicuramente dal gol di Sobaiano. Analizzando Roma-Inter, giornali e moviole si soffermeranno probabilmente su un unico episodio, anche perché la gara presentata come rivincita fra le finaliste dell'ultima Coppa UEFA ha francamente deluso. Cinque minuti dal termine, sullo 0-0 che sembra il risultato più logico. Il nuovo entrato Ciocci si libera di Tempestilli, fino a quel momento uno dei migliori in campo che lo atterra. Per l'arbitro Pairetto è rigore. Ecco la versione del difensore giallorosso e dell'attaccante interista. Massimo, onestamente, in campo è stato veramente un ragazzo molto corretto e leale. Mi ha detto che c'era stato un fallo su un colpo di destra nella stessa azione. È nato il calcio di rigore dove io ho commesso un'ingenità e ho fatto fallo di rigore. Giustamente è concesso da Timor Pairetto. Avevo visto un lancio di desideri, mi ha pescato molto bene, ho soppato la palla, l'ho portato avanti e mi ha fatto fallo. In precedenza, per questo intervento su Muzzi, aveva protestato la Roma, come sottolinea Ottavio Bianchi, comunque leale nel valutare la decisione versa. Ma dal mio punto di vista il rigore c'era. Come c'era nettamente un altro a favore nostro, ma io ho visto due episodi simili. Episodi a parte, l'incontro non offre spunti di grande rilievo. L'Inter prova a graffiare soltanto nei primi cinque minuti con le conclusioni di Desideri, schierato contro i suoi ex compagni, e di Mateus. Porrico risolve dunque i problemi d'abbondanza, giocando con Klinsmann, unica punta, e sacrificando Fontolan in panchina. D'altra parte, la Roma continua a convivere con l'emergenza. Se l'assenza di Rudi Föller è mascherata dall'entusiasmo e dalla forma del duo Muzzi-Rizzitelli, quella del centrocampista Di Mauro si fa sentire. Gli unici brividi del primo tempo sono provocati da un assist dell'arbitro, non sfruttato, e da un'uscita a vuoto di Zenga. Tutto sommato troppo poco per una sfida di cartello che il computer ha capricciosamente inserito alla seconda giornata. Un po' più vivace la ripresa, grazie soprattutto all'ingresso di Salsano per Rizzitelli e di Ciocci in sostituzione di Battistini. Il fantasista della Roma dà alla squadra quel pizzico di fantasia che un Essler sottotono non riesce ad offrire, e impegna Zenga nell'unico intervento difficile. La punta nera-azzurra mette subito in risalto la sua qualità migliore, la velocità, dopo aver sciupato in compiede, provoca il penalty decisivo. Dal dischetto, Mateus non sbaglia e sigla il gol partita. Umori ovviamente diversi negli spogliatoi, Bianchi non drammatizza. Olrico risponde al nostro opinionista Aldo Agroppi che, alla radio, afferma di aver visto un Inter per nulla rivoluzionaria, anzi trapattoniana. Non si vince i punti, si vince alla fine chi la butta dentro uno più dell'altro. Questo è il calcio, le altre sono chiacchere. Ma non lo so se cosa ha detto Agroppi e neanche proprio mi interessa molto. Io credo che l'Inter giochi un calcio diverso. Non voglio dire che sia migliore assolutamente, però gioca un calcio diverso. Certamente dormiamo dalla parte del cuscino a letto, non dalla parte dei piedi. Per cui non è che giocare il calcio a zona vuol dire dare sempre vantaggi sul piano tattico agli avversari. Lei, in base a quello che ha visto oggi all'Olimpico, pensa di avere qualcosa da imparare dalle teorie rivoluzionarie? L'imparo tutti i giorni, immagini lei. Matteus che batte male Gregori che pare il secondo penalty di Bremen e poi subisce il gol di Desideri Ciocci che tira le stelle Desideri che manda la palla prima sul palo e poi dentro Quella che avete visto è la incredibile sequenza di rigori di San Siro Quattro rigori, tre sbagliati Ciocci ha sbagliato il terzo Emozionato, ha tirato male, cosa è successo? Emozionato no, forse ero troppo sicuro di far go e invece ecco l'ho sbagliato A me sembra che manchi qualcosa, soprattutto nel momento della finalizzazione del gioco Sicuramente, l'Inter ha un po' dei problemi Comunque un fatto c'è da dirlo che creiamo molto E' sempre la stessa Solfa Zenga migliore portiere del mondo Difensori che non accettano rigori al primo minuto Ma Matteus che sbaglia così dagli 11 metri S'era visto raramente D'altro canto questa è una partita eccezionale Roba da cineteca L'Inter qualche volta in difesa ha problemi non da poco Ma come ha detto Ciocci, crea parecchio Già, ma butta via molto E finché sia davanti un avversario decimato e anche sfortunato Può andare tutto bene Ma quando arriveranno quelli con la Rolls Royce? Quattro rigori non si trovano tutti i giorni C'è desiderio a mettere KO il Verona la prima volta E certamente il gol non demoralizza i giallobluti Che pretenderebbero il penalty per questo intervento su Fanni Ne Ciocci può essere sempre l'asso pigliatutto La verità è che Matteus è ancora al 50% Che a centrocampo si corre molto e a volte si ragiona poco E che la generosità non sempre paga Gente in palla ce n'è Bianchi per esempio Kniesman sarà anche sfortunato Ma non è concreto come un tempo Forse non è neppure baciato dalla sorte Ma spesso sono i risultati che fanno testo E c'è chi non sottilizza Il punteggio avrebbe potuto essere comunque più rotondo A prescindere dai rigori sbagliati Ma anche se lo spettacolo è bello C'è chi non vuole beccare l'infarto Pure se la difesa del Verona è generosa Insomma l'Inter va avanti E la squadra di fascetti resta al palo In attesa di Stoicovic e degli altri acciaccati Orrico che annuncia per mercoledì altre novità in Coppa È abbastanza contento Moderatamente soddisfatto come si deve essere Dopo che qualcosa di buono si vede E che comunque per un allenatore L'impegno più grosso è lavorare là dove sono le ombre E che ritengo di aver individuato Ancora come ogni gara propone E Gregorio è una giornata un po' particolare Per lei era capitato mai di parare tanti rigori? No, avevo parlato domenica scorsa al Malassi contro la Sampdoria Però anche in quell'occasione abbiamo perso 2-0 Quindi sembra che questi rigori siano ripetitivi ogni domenica Speriamo che magari qualche rigore entri Ma che il Verona possa fare qualche risultato positivo Possiamo tranquillamente dire che è tornata la Sampdoria Aiutata da un'Inter lenta e impacciata La squadra campione d'Italia Ha mostrato nuovamente il bel gioco dello scorso anno La formazione di Boscov con Sereso libero Lombardo vecchia maniera sulla fascia E Silas bravo a rifornire con continuità Vialli e Mancini Hanno come loro consuetudine marcato in pressing In tutte le zone del campo L'Inter è disposta a zona I centrali Ferri e Bergomi però sono un po' lenti nel chiudere Il tedesco Mateus non è in condizione Desideri a sinistra è un giocatore in meno per Enrico Roberto Mancini disdegna le cose facili Sbaglia clamorosamente tutte le occasioni Che trasformerebbe anche un bambino Per poi colpire però a 10 minuti dalla fine del primo tempo Su un lunghissimo lancio di Wierkowod La ripresa vede l'ingresso di Fontolampier Desideri Ma chi ha mai detto che il contropiede può farlo solamente la squadra ospite? La Sampdoria è una marcia in più E Lombardo da un po' di tempo a questa parte ha anche una ottima mira 2-0 L'Inter perde un po' la testa Per i campioni aumentano invece gli spazi E Silas, brasiliano allegro, esalta le doti fisiche di Gianluca Vialli E non è finita perché c'è ancora il tempo per un altro bellissimo gol di Lombardo Quello del 4-0 E per Enrico si profila la prima settimana difficile da milanese Enrico al di là del risultato pesante Che cosa è che la preoccupa di più di quello che ha visto in campo? Ma è stata una partita storta Una partita ben giocata dalla Sampdoria Ha giocato bene anche da noi fino al primo gol E poi è saltato per aria tutto E loro sono stati bravissimi a approfittare in contropiede A livello strettamente tattico Quali sono le cose più difficili da far capire ai propri giocatori? Ma certamente i sincronismi difensivi sono determinanti Se non avvengono al meglio Si rischia moltissimo contro giocatori di grande talento come la Sampdoria in attacco Ma la zona è un fatto anche di mentalità Ci vuole tempo per apprenderla? Ma sembrerebbe di sì Però la fanno in diversi Non è che l'abbia inventata io Per cui con pazienza e prove e qualche bastonata Dovremmo riuscirci a trovare un'organizzazione un po' più puntuale di quella di oggi Ecco l'Inter era un po' alla vigilia considerata una sorta di oggetto misterioso Questo nuovo gioco impostato da Orrico con tutta una serie di esperimenti Lei aveva qualche timore forse che poi sul campo è svanito? Io posso dire che l'Inter ha giocato molto bene i primi ventina minuti Può essere venticinque Però hanno giocato molto corizzontale I miei difensori hanno avuto sufficiente tempo per si mettere a posto E per loro era difficile rompere la nostra difesa Noi abbiamo giocato alla Sampdoria Io non posso cambiare tattica perché ho questa squadra da cinque anni Noi continuiamo a giocare sull'uomo con un libero Però penso che quando hai così bravi attaccanti come Lombardo, Viali e Mancini Ora una palla a gol può risolvere tutti i problemi in campo Lombardo goli a Doro ma la notizia più importante è che è tornata alla Sampdoria Sì, la notizia più importante è questa Sicuramente i tifosi che sono venuti a vedere oggi Si sono entusiasmati a vedere questa squadra che ha girato veramente a mille Non ha sbagliato nulla Zenga arrabbiato Dove è stato l'errore oggi? Se di errore si può parlare Vabbè arrabbiato perché quando si perde 4-0 è chiaro che non si può essere felici Però il nostro gruppo deve restare unito e dobbiamo da domani riprendere un discorso che abbiamo interrotto oggi a Marassi 4-0 è una brutta sconfitta, penso soprattutto ai nostri tifosi Ma proprio perché i nostri tifosi so come la pensano devono sapere che noi siamo un gruppo unito E che da domani cercheremo di rimediare immediatamente a questa brutta sconfitta Ecco però, secondo te cos'è che non ha assimilato il gruppo? Dal punto di vista tecnico-tattico più che psicologico? Lo so perché domenica scorso avevamo giocato molto bene Avevamo fatto una buona partita, ha creato tanti gol, tante palle gol Avevamo, per detta di tutti, entusiasmato Oggi dopo il 2-0 abbiamo cercato in tutti i modi di rimediare E abbiamo prestato il fianco alla Sampdoria a degli spazi che hanno sfruttato benissimo Poi ci sta anche che uno tira sul 3-0 e becca l'incrocio dei pali Vabbè, ci sta anche questo L'Inter a Roma è ormai di casa Vince sempre Orrico ha sistemato la difesa ed ha beffato una Lazio coraggiosa, sfortunata, ma anche ingenua È difficile attaccare contro avversari ben organizzati La Lazio ormai lo sa bene perché all'Olimpico non riesce a vincere I ragazzi di Zoff non hanno forse tenuto conto nella circostanza dei continui avvisi del loro allenatore A non montarsi la testa e soprattutto non hanno considerato che i pericoli nerazzurri Potevano arrivare da lontano e non soltanto dal duo Klinsmann-Ciocci È possibile che Ferri segni subito, al primo minuto, sul primo spiovente di Breme? Certo che è possibile se la difesa non è compatta e se qualcuno non si prende l'incarico di bloccare validamente l'incursione del difensore avversario Quando si fanno simili frittate, subito, all'inizio, la partita nasce male Specia se di fronte sia una squadra che, sferzata dalle critiche, falleva su una forte volontà di riscattarsi Non che l'Inter abbia incantato all'Olimpico, ma ha lavorato rispetto al passato con maggiore ordine in difesa Dove Bergomi e Ferri, centralmente, hanno trovato un miglior coordinamento Paganin e Breme hanno evitato che la Lazio si facesse pericolosa per vie esterne Cosicché il solo Doll, talvolta, ha inventato qualcosa E centralmente è stato difficile farsi largo per i centrocampisti che hanno perso i duelli con gli avversari Il pressing nerazzurro e le mine vaganti Matteus e Berti hanno ribaltato spesso la situazione E la Lazio è riuscita ad andare al tiro solo sulle palle da fermo L'Inter ha giocato una partita attenta e, dopo aver subito l'avversario, ha sfiorato il raddoppio con Klisman nella ripresa Certo, nel finale Zenga ha fatto ottime cose e qualche errore in fase conclusiva ha impedito ai Biancazzurri di andare al pareggio Nell'ingresso di Riedel è servito al momento topico per sbloccare la situazione In questi casi le valutazioni possono essere le più disparate perché ognuno butta sul piatto della bilancia quanto ha fatto di buono Dimenticando errori e storture E quindi per la Lazio il risultato premia eccessivamente l'Inter Quanto a Orico, beh, lui dopo quel che è successo in questi giorni sul gioco a zona e a uomo Preferisce dire che è una questione di lana caprina Tra uno schieramento a zona e uno schieramento cosiddetto all'italiana Ci sono di partenza buone differenze ma in realtà le varianti dentro i due moduli Spesso avvicinano questi due concetti di gioco Perché qualche volta una squadra che gioca a zona con il libero sembra una squadra che giochi all'italiana Ci sono squadre che giocano con il libero che hanno uno schieramento quasi a zona Quindi voglio dire, è proprio una discussione che sta in piedi per comodità editoriali secondo me Perché in realtà sul campo le differenze sono mini La zona non significa niente, insomma, loro si sono difesi bene E dopo Dino Zoff ecco il presidente laziale Calleri al microfono di Donatella Scarnati Io veramente in settimane l'ho anche dichiarato pubblicamente Ero molto preoccupato per questa gara e per quest'Inter Preoccupazioni che potevo fare a meno di avere perché visto l'andamento della gara Ho trovato che, ho visto che la mia squadra ha surclassato nettamente la squadra nell'azzurra Ha disposto in campo come quando voleva Gli è mancato il gol che è molto importante Comunque ne ha sfiorati in 4-5 occasioni, l'ha sfiorato per un non nulla E infine Walter Zenga Ma chi perde in genere è sempre sfortunato E penso che però la Lazio possa avere il rammarico della sconfitta Ma la gioia di sapere che è una squadra viva, forte, che può competere ad alto livello Per Gigi Radice un buon esordio sulla panchina della Fiorentina L'Inter gioca meglio rispetto alla partita di Coppa col Boavista Ma non ci siamo ancora Certamente è un momento difficile per i nerazzurri Che non possono contare pienamente sull'apporto dei tre tedeschi A centrocampo la Fiorentina ha uomini abili come Mazzinio E Dunga mentre Dell'Oglio cerca di frenare le proiezioni di Breme E a sua volta di impostare gioco Klinsman, qui sfortunato, non è in giornata Insomma c'è difficoltà obiettiva nel divincolarsi dalla morsa viola Berti tenta di inventare qualcosa sulla destra Ma la difesa fiorentina, più attenta rispetto al passato, non molla la presa Radice privo dei playmakers Orlando e Maillaro e della punta Borgonovo Affianca Branca Battistuta Le nuvole di fumo di Orrico si fanno più frequenti e soddisfatte Tuttavia al momento del gol nella ripresa Anche stavolta la rete scaturisce da una punizione toccata da Breme A desideri e sfruttata con un bel tiro ad effetto dall'ex romanista Che ormai è il cannoniere eminente dei nerazzurri Visto che le tre punte hanno segnato la miseria di due volte in otto partite ufficiali Evidentemente l'Inter ha dei problemi pure in difesa La fiorentina arriva infatti al tiro con frequenza E basta rifarsi a queste azioni dei viola Che alla fine meriteranno il pareggio Per rendersi conto che, come predica Orrico È la mancanza di equilibri fra i reparti a determinare qualche sbavatura Insomma la fiorentina il suo pareggio se lo costruisce minuto dopo minuto Mentre Klinsmann e Fontolan dall'altra parte sciupano L'ingresso di Iechini dà maggior vigore ai viola Zenga salta da tutte le parti Il terreno è traditore e sul tiro di Fiondella il portiere interista resta beffato così I nerazzurri imprecano contro la sorte e protestano per la posizione dei giocatori viola Comunque a poco valgono le buone intenzioni e la determinazione Fra la grammatica del professor Orrico e la pratica dei suoi allievi C'è ancora qualche incomprensione Per radice al microfono di Paola Ferrari un buon esordio senza rivoluzioni Nel primo tempo siamo stati un po' troppo tattici e non abbiamo trovato spazio Cioè avevamo spazio e non ne abbiamo sfruttati bene Nel secondo tempo questo ci è riuscito un po' di più E infatti siamo andati oltre che pareggiare vicino anche a segnare un'altra rete Ha già capito qual è la potenzialità di questa squadra? No, direi di no Massimiliano Fiondelungo l'importante che va sul pareggio a questa fiorentina È vero che hai ringraziato Zenga? Sì, scherzosamente, però diciamo che forse non è colpa sua ma è colpa del terreno Come lui giustamente ha detto Nicola Verti, hai visto dei miglioramenti nel gioco di quest'Inter dal mercoledì oggi? Beh, direi di sì, il mercoledì sera è stata proprio una brutta Inter Oggi, come ho già detto, accettabile Oggi voi ce l'avete messa tutta anche il cuore Ma allora questo è il massimo che può dare l'Inter? Non so che cosa dire, speriamo proprio di no Direi che è stata un'accettabile Inter ma non la vera Inter Se è concesso utilizzare il linguaggio medico Potremmo parlare di un Cagliari come di un ammalato grave Nel quale comunque si riscontrano leggeri sintomi di miglioramento L'Inter invece è un po' come quelle persone che all'apparenza sono sanissime Ma poi a un esame clinico si scopre che hanno delle malattie Se non gravi, comunque preoccupanti A scoprire le magagne che allignano in casa neroazzurra È stato oggi Carletto Mazzone, 52 anni, romano Vecchia volpe dei campi di Serie A Chiamato al capezzale di un Cagliari in stato precomatoso E la cura Mazzone si è fatta sentire Complice anche la sosta di domenica scorsa Che ha consentito al tecnico di mettere in squadra un ordine tattico Ma soprattutto mentale Sapendo che Orrico non avrebbe del tutto rinnegato il credo zonistico Mazzone ha affidato all'entrante Fonseca Il compito di portare lo scolpiglio in una difesa schierata A volte scriteriatamente in linea E poi rispolverato il credo che la miglior difesa è l'attacco Credo dimenticato nella brevera Giacomini I sardi sono partiti in avanti creando diversi crattacappi a Zenga Ma che cosa Mazzone ha portato veramente a questa squadra Che non più tardi di 15 giorni fa sembrava ormai rassegnata? Io ho portato tre cose Ho portato un'esperienza maggiore di Giacomini Perché sono tantissimi anni che mi trovo in queste situazioni di bagarre Nella bassa classifica Più tranquillità perché è un anno che sono a riposo E in un anno non ho mai perso perché non sono mai sceso in campo E poi penso di aver portato anche un pizzico di fortuna Che prima non c'era Ma il tasso tecnico nonostante il maggior ardore agonistico Era a vantaggio dei neroazzurri che hanno trovato il gol con Baggio Alla prima occasione utile Un colpo da KO che Yelpo ha poi evitato Con una pronta risposta ad un fulmine scagliato da Berti Intanto Fonseca ha continuato ad affondare nella difesa neroazzurra E dall'ennesima occasione utile è riuscito a battere Zenga Rendendo giustizia ad un risultato assolutamente bugiato Le considerazioni non sono solo nostre Ma anche di un onestissimo ricco Che con grande accume ha così fotografato la partita Una squadra interpreta magnificamente la partita come ha fatto il Cagliari E noi non abbiamo controbattuto in termini tattici come avremmo dovuto Succede che la bella figura la fa il Cagliari E la brutta figura l'abbiamo fatta noi E nel secondo tempo il Cagliari con Pistella al posto dell'infortunato Fonseca Ha mutato gioco affidandosi di più alla manovra corale Mentre nell'Inter i sempre spenti Matteus e Klinsmann Hanno trovato validi sostituti in un sempre presente Berti Nel dinamico Breme e poi anche in Ciocci e Fontolani Ma è stato sempre il Cagliari a tenere il pallino del gioco In qualche caso la difesa ospite si è dovuta anche arrangiare alla meno peggio Come in questa occasione su Pistella Ma Boggi ha lasciato correre L'arbitro è stato anche vittima di una buca traditrice Che lo ha costretto a chiedere l'intervento dei massaggiatori Nessun danno per il direttore di gara Che comunque al termine dell'incontro non ha voluto parlare nemmeno dell'infortunio E allora concludiamo ancora con un ricco Al quale si fa alleggiare da qualche parte il fantasma di un vicino Ormai libero da impegni federali Ho anche altri interessi oltre il Cagliari mi credo Il Napoli che era venuto a San Siro probabilmente per un punto Ha rischiato di portarne a due Ma l'Inter certamente non avrebbe meritato la sconfitta Tutt'altro Comunque è stato uno 0-0 piacevole Piacevole sì Ma non certo per i protagonisti dei Tafferugli Alla fine un tifoso napoletano è stato ferito da una coltellata Torniamo al calcio Corrado Enrico quasi prigioniero di una situazione difficile Aveva posto l'out-out O mi credete o mi cacciate Facile a dirsi Anche il cugino Evani era rimasto affascinato dall'interrogativo Ma in definitiva non è cambiato nulla O meglio dopo una partita così Tattica, difficile, giocata in velocità con un pressing spietato Dopo una gara in cui l'Inter è andata avanti in certi momenti con grande impegno Trascinata da Matteus e Berti Che accusa si può fare a Enrico? Gli è venuto a mancare dopo 22 minuti un'importante fonte di gioco Bianchi fermato da uno stiramento Ma si può dire che l'assetto tattico napoletano molto azzeccato sia stato messo a dura prova dai nerazzurri Anche se Klinsmann e Fontolan soltanto a tratti sono apparsi pericolosi Ranieri ha presentato Careca punta isolata ed Alemau in posizione avanzata sulla sinistra Crippe e Pusceddu preferito per ragioni tattiche a Padovano hanno agito sulle zone esterne del campo Mentre Corradini ha preso in consegna Matteus Un Matteus che nel finale del primo tempo ha dato un'impronta notevole alla partita Molto frenetica e intensa Si sa però che velocità e frenesia sono nemiche della precisione Anche se nella ripresa l'Inter ha continuato a tenere sotto pressione il Napoli Gli episodi più importanti li state vedendo Dicono di una squadra nerazzurra determinata ma anche imprecisa Comunque dopo 85 minuti punteggiati da episodi abbastanza interessanti Alla fine come nei gialli c'è stato anche il colpo di scena Col gol di Alemau annullato forse per un gioco pericoloso che farà molto discutere Ecco Claudio Icardi con Crippa Che ha giocato la centesima partita con la maglia del Napoli Abbiamo fatto una buonissima partita poi alla fine così abbiamo pure segnato Ovviamente bisogna vedere stasera come è interpretato così la rete e l'arbitro Però credo che sia stata una buonissima partita Ci siamo ripresi dalla sconfitta con la Juventus Siamo venuti a San Siro a giocare la partita aperti per imporre il nostro gioco e quasi ci riuscivamo Enrico qualcuno può storcere il naso di fronte a uno 0-0 interno Ma è stata probabilmente la migliore Inter della sua gestione Sì a me è piaciuta molto la partita di oggi e grazie anche al valore dell'avversario Al comportamento dell'avversario quindi abbiamo giocato una partita ottima Sia da un punto di vista tattico che da un punto di vista psicologico In precisione la fatalità qualche volta e la procura anche degli avversari Ci ha impiedito di segnare però io sono molto soddisfatto Lei pensa che almeno in questa settimana potrà lavorare con tranquillità Oppure ci sarà ancora quello che lei ha definito uno sport nazionale il tiro all'orrico No ma mi diverte anche io mi creda guardi non perdo né il sonno né la concentrazione sul lavoro Anzi forse mi mette un pizzico di rabbia in più addosso che non nuoce Ragneri allora anche uno 0-0 può essere divertente e piacevole Io credo che i tifosi, gli sportivi oggi si siano divertiti Hanno visto due squadre alla continua ricerca di gol Entrambe non sono riuscite a farle Qualche occasione in più l'ha avuta l'Inter Però è stata una partita interessante Giocata a velocità pazzesca E invece il gol annullato? Ma guardi io l'ho sempre detto Gli episodi se c'è stato errore da parte di qualcuno bisogna saperli accettare Ciro Ferrara so che tu sei costantemente in contatto telefonico con Diego Maradona Se dovessi chiamarlo ora e raccontargli la partita di San Siro di oggi che cosa gli diresti? È stata una di quelle partite vere, una di quelle partite che piacciono a Diego sicuramente All'Inter manca il gol, nemmeno Berti che le ha provate tutte ha la ricetta giusta Purtroppo non c'è un allenamento specifico per la realizzazione È un briccio di fortuna, un briccio di forse anche di concentrazione in più Nando De Napoli è stata una lotta tremenda a centrocampo Sul tuo contachilometri personale che numero c'è scritto? Non lo so abbiamo corso parecchio tutti noi Non soltanto io ma anche gli altri del centrocampo Abbiamo fatto come ti dicevo prima un'ottima partita E di fronte a un Inter veramente forte Senti gira voce che al primo tuo gol personale ti taglierà i capelli Sì, dicevo no, non lo so, mia madre Quello fra Torino e Inter è stato uno 0-0 magari non bello ma comunque intenso Perché è ricco di motivazioni su ambe due fronti La rabbia nerazzurra per il passo falso di mercoledì Contro la rabbia granata per l'espulsione di Schifo Dal tabellino preleviamo quattro episodi su tutti Nel primo tempo il palo colpito da Lentini Massimo pericolo di un Torino accorto e combattivo Per quanto non prodigo di conclusione Nella ripresa in apertura questo euro tiro di Montanari Sul quale si proietta Marchegiani E in chiusura questo tentativo di Battistini Che per la seconda volta vede il protagonista, il portiere Granata Tutta la partita ruota comunque attorno all'espulsione di Schifo Per un fallo di reazione commesso su Matteus all'ottavo della ripresa È sicuramente la più plastica rovesciata della partita Se non fosse che al posto del pallone c'è la faccia che sa rotonda del tedesco Cartellino rosso sacrosanto ma cartellino giallo risparmiato a Matteus Che ha provocato l'inatteso saggio di arti marziali In sede di convento nulla meglio di questo sintomatico Agnelli sedest Documenta l'alternanza di stati d'animo suggeriti dalla partita Se Borsano a destra promesse i ganesi La Rai fa scuola a cameraman senegalesi Ma se Dio vuole senza inghippi di tesseramento Al Torino manca Policano Ma Venturini si conferma sulla fascia sinistra Pedina di eccezionale saggezza tattica In una sorta di replay dell'impeccabile chiudivarchi fusi L'inferiorità numerica interrompe il crescendo dei padroni di casa Che per tutta la ripresa devono mettere il temperamento al posto delle ambizioni Magari chiedendo all'impetuoso Bruno di reinventarsi Maradona della Domenica Nell'Inter mancano Breme, Bianchi e Zenga Sostituito da questo ringhioso abate Il piglio di Berti è l'emblema di una squadra che vuole cancellare l'onta del Como Offrendo almeno un'ora di gioco all'altezza dei disegni di Orrico La coppia Ferri-Montenari come del resto Baggio Comincia a convincere Mentre Klinsmann si sbraccia per farsi vedere Anche perché la manovra finalmente è consistente E' più insidiosa grazie ai difensori che non grazie alle punte Vediamo ora le interviste realizzate da Franco Costa Ho visto un'Inter molto tonica direi Presidente Ma sono d'accordo Un'Inter tonica e bella Dobbiamo crescere Abbiamo dato una dimostrazione di solidità Abbiamo confermato la bella prova Di otto giorni prima con Napoli E questo mi conforta perché mai l'Inter aveva tenuto direi con dignità E con una buona organizzazione due partite di seguito Soddisfatto comunque di questo Torino direi no? Sì, penso che sia stata la gara più grande che il Toro abbia fatto dall'inizio di quest'anno fino qui Perché solo un grandissimo Toro poteva non soccombere di fronte a quest'Inter Perciò sono soddisfattissimo di questa gara Cos'è successo con Schifo? La verità, tanto abbiamo le immagini Ma mi dispiace per lui perché ha perso un secondo la testa Ha toccato me con i piedi sulla spalla E era un espulso Ma prima ha fiscato l'arbitro un fallo contro Torino E io volevo rubare la palla Perché lui l'ha lasciato la palla libero Cos'è normalmente E dopo lui mi ha toccato con i piedi a mia spalla E era un espulso Ma mi dispiace per lui L'Inter come giano bifronte Intraprendente in attacco ma con qualche pecca in difesa Se Lascoli ne avesse approfittato Probabilmente staremmo raccontando un'altra partita adesso Guardare per credere I nerazzurri privi di Zenga, Bergomi e Bianchi Inizialmente trovano pochi spazi Ne trovano invece parecchi I marchigiani che si presentano così ad Abate Prima Giordano e poi Wervort Non reperiscono l'ispirazione e il tempismo per concludere E' logico che l'Inter abbia più munizioni Ma dopo un salvataggio di Zaini Sul tentativo di Klinsmann Ecco qui cosa ti combina Giordano Taglia fuori tutta la difesa Compreso Abate E poi non trova la tempestività necessaria Per il tiro vincente Porrico dice spesso Che se la difesa fa certe figure E' anche colpa degli altri reparti Ma forse i nerazzurri che non vincono in casa da due mesi Sono troppo preoccupati di far gol per curare al meglio l'aspetto tattico E' pur vero che dall'altra parte c'è un Lorieri che prende tutti i palloni Possibili e impossibili E comunque i tentativi di Matteo Desideri e Klinsmann Vanno a vuoto Nell'Inter di quest'anno su 9 gol segnati Soltanto uno è stato opera di una punta Ciocci Klinsmann e Fontolan sono rimasti muti E Ferri che dà il là all'azione della rete del centrocampista Berti Che si rifà dei fischi di genere E' la forza del collettivo diranno gli esperti Ma forse sarebbe meglio che i golli facessero anche gli attaccanti Ferri poi va a siglare il 2-0 di testa Così i suoi gol quest'anno sono già due Ed è la conferma che occorrono difensori capaci di rendersi utili anche in fase offensiva Desisti a questo punto manda in campo altri giocatori in grado di andare avanti E crea qualche fastidio all'Inter Anche se Lorieri non ha certo finito di tribolare Ma quando Trollio mette a segno il suo delizioso pallonetto Ci si chiede dove è finita la forza del collettivo Nerazzurro Era un ricco, primo in vincere, deinde filosofare Difficile, sapeva che abbiamo progredito Certo che abbiamo con il minimo confermato la voglia di vincere L'idea di aggredire l'avversario Alleluia, Berti non espatrierà dopo i fischi di Genova Ve l'hanno messa in toni seriosi Cosa che non era assolutamente, era assolutamente una battuta La partita? Direi una buona Inter dove si è deconcentrato assolutamente gli ultimi dieci minuti Il pigliatutto Lorieri, l'Inter l'ha vista così Ci ha lasciato qualche occasione che potevamo sfruttare meglio Quindi così lasciare magari due occasioni all'Ascoli Poteva essere un attimino così rischioso Infine Trollio Venire qua a perdere e non essere capaci di arrivare in porta Ci faceva andare all'Ascoli temorosi, senza morale Invece così torniamo tranquilli, abbiamo fatto una discreta gara Non dico che avevamo meditato di più perché il risultato mi sembra stato giusto Con l'Inter corta e il Parma zona mista Non siamo ancora al calcio totale che va predicando Orrico Però oggi al Tardini, nonostante la pioggia, lo spettacolo è stato piacevole Volendo comunque tirare le somme per la sua nuova Inter Orrico deve ancora una volta accontentarsi di rendiconto parziale Perché le cose migliori, Matteus e compagni, le hanno messe in mostra in avvio di partita E precisamente fino al 14esimo Quando il tedesco ha finalmente eseguito al meglio E Fontolan sulla deviazione di Apolloni ha deposto in rete Solo nel finale di partita l'Inter ritornerà a farsi applaudire Mentre per lunghi tratti ha mostrato di soffrire le rapide trame del Parma Davvero specialista nel tenere palla senza però rallentare il gioco E' così che Battistini, Breme e lo stesso Ferri Vengono superati più volte dai suggerimenti verticali di Osio, Zoratto e Cuoghi A beneficio di un Agostini, oggi quasi sempre in equilibrio precario Causa le condizioni del terreno e Brolin anche lui poco convinto Quando si tratta di infilare Zenga Sta di fatto che un quarto d'ora dopo il gol di Fontolan Tocca a Cuoghi pareggiare mescolando tecnica acrobazia ed encomiabile astuzia Come detto la parte centrale della gara vede in cattedra i centrocampisti del Parma Però è Breme a centrare la traversa di Tapareu Dopo una velocissima incursione di Fontolan Nella ripresa per una ventina di minuti i giocatori delle due squadre Con la sola esclusione dei portieri Decidono di fare tutto ammucchiandosi pressoché costantemente All'interno di un rettangolo profondo non più di 30 metri Flottando sulla linea di centrocampo E' l'arci preannunciato gioco corto per squadre corte Bisogna ritornare a trame più convenzionali All'italica pedata per rivedere una buona Inter offendere Converti D'obbligo sottolineare la bravura di Tapareu E il Parma seminare panico in area interista Tanto da consentire ad Agostini di fare vedere quel che vale Ma è solo palo Migliori in campo dichiara i cuoghi per il Parma Più difficile la scelta fra i giocatori dell'Inter Ma tanto a Orrico interessa solo il collettivo Orrico insegue un obiettivo di zona totale Quella vista a Parma è ancora parziale Orrico? E' una buona zona Non totale perché Se no sbaglieremo tutto a ritenerci soddisfatti Abbiamo dei problemi ancora di gioco da risolvere Però vedo che la squadra assume già un atteggiamento Molto vicino a quello che mi aspetto sul piano tattico Cioè la capacità di proporre in attacco uomini diversi E la capacità anche di difendersi con più uomini Quando viene attaccata Da rivedere un atterramento di dichiara Sul quale Trenta Lange fa proseguire Quindi il gol di Stefano Cuoghi Che lo stesso definisce così No, dico la verità Volevo fare questo tipo di tir Poi chiaramente ci vuole un po' di fortuna Per fare questo tipo di gol In che modo? Cioè trovare l'angolo dall'altra parte A me è andata bene Sono molto contento Ma sono più caldo contento Per la grande prestazione che ha fatto la nostra squadra Una buona Inter Finalmente un gol di Klinsmann Ma bisogna dire che il Milan era partito molto bene E che l'espulsione di Franco Baresi Nel finale ha condizionato la partita dei rossoneri Si lotta contro l'AIDS Ma i nerazzurri combattono anche per la sopravvivenza Orrico manda Beppe Baresi a presidiare la zona di Donadoni e Maldini E consentire così a Matteo di esprimersi al meglio Klinsmann e Fontolan si incrociano sul centro-destra Berti agisce sulla sinistra Su Gullit gioca Dino Baggio Si comincia con qualche protesta Qui per l'intervento di Ferri su Donadoni In questo zona contro zona L'olandese cerca di disorientare il suo angelo custode Parte da lontano Si presenta alla conclusione col suo capoccione micidiale Sembra che il Milan debba far polpette degli avversari Ed il gol segnato in contropiede con rapida sequenza Albertini Gullit Massaro van Basten provoca le bane proteste dei nerazzurri In effetti l'azione è regolare Ma suscita perplessità la consultazione fra Pairetto e il suo collaboratore I rossoneri riveleranno poi che il guardaline non si era accorto del gol Segnatevi questa munizione di Baresi per problemi di distanza della barriera Sarà importante L'Inter subito il gol va avanti Disordinatamente senza tiri decisivi Ma comincia a giocare Il Milan è sempre pronto al contropiede con gli olandesi rapidi come falchi Ma i nerazzurri non possono assolutamente perdere la partita E nella ripresa continuano ad andare avanti C'è molta tensione Zenga dice che non è giusto E Pairetto minaccia di cacciarlo Desideri sostituto di Beppe Baresi Dai là al gol del pareggio L'ex fornaio Klinsmann sforna il primo bignè della stagione La pasticceria comincia a funzionare finalmente Poi l'intervento di Franco Baresi fa scattare la seconda munizione E l'automatica espulsione del capitano Rossonero Il Milan adesso sta sulle sue I nerazzurri protestano per la spinta di Maldini a Desideri E la partita offre questo brugiante scatto di Gullit che taglia fuori il diesel Bremi L'abisso fra Milan e Inter non c'è visto come confermano il presidente Pellegrini E Nicola Berti a Claudio Icardi Mi pare che oggi i nostri giocatori, i miei ragazzi Abbiano dimostrato di valere quanto il Milan Se noi giochiamo al massimo delle nostre possibilità Penso che possiamo competere con qualsiasi squadra O anzi superarla addirittura Oggi abbiamo sofferto i primi 15 minuti parecchio Poi dopo c'è stata solo una squadra che ha cercato di vincere, di far gol I tuoi denigratori dicono che tu vai troppo in discoteca Ma poi la domenica corri il doppio degli altri Ma quelle sono voci infondate Io cerco sempre di dare il meglio di me stesso E per me la cosa più importante di un calciatore è la serietà professionale Franco Baresi, dalla tribuna si è avuto l'impressione che qualcosa Avesse cominciato a scricchiolare anche prima della tua espulsione Ma se andiamo a vedere l'occasione Insomma, loro magari facevano questi lanci lunghi Cercavano appunto così di avere l'opportunità di fare uomo contro uomo E di cercare il gol in questo modo Ma non hanno mai tirato in porta Sui giornali abbiamo appreso che sei il giocatore più ricco Sei diventato anche il più cattivo tutto in un colpo No, credo proprio non sono il più ricco, non sono il più falloso Ha fatto un fallo in tutta la partita Purtroppo era la seconda munizione E l'arbitro ha dovuto mandare via Adesso i due allenatori, Orico e Capello Ma l'idea era sempre comunque quella di giocare alla pari con il Milan Anche perché noi altri se abbiamo un'idea da costruire Dobbiamo, come dire, o romperci il muso o crescere Quindi oggi era la giornata giusta e potevamo spaccarci la faccia Perché potevamo aprire tre gol andando a cacciare il Milan nella propria metà campo E solo che noi altri non ci siamo spaventati Abbiamo fatto gli arroganti fino in fondo E questa volta la sorte ci ha premiato Io devo fare una confessione Ho detto ai miei ragazzi ieri quando abbiamo preparato la partita Guardate che Klisman è in forma Noi abbiamo fatto uno splendido primo tempo Poi nella ripesa siamo partiti un po' così Cercando di mettere la partita Abbiamo subito un gol sull'impallo Su un nostro regalo involontario Però bisogna dire che la squadra ha saputo soffrire E questo è molto molto piacevole per un allenatore 35 minuti di dominio bianconero 45 minuti di supremazia nerazzurra E poi la serpentina all'abbaggio di un altro Roberto Emblema della maggioranza silenziosa del nostro calcio Alludiamo a Roberto Galia La cronaca essenziale comincia al 36esimo del primo tempo Un errore di Montanari mette in movimento Casiraghi Che in area interista viene affrontato da Zenga Secondo la versione juventina L'intenzione del portiere è quella di ostacolare l'attaccante Tra l'altro senza colpire il pallone Rigore quindi legittimo Secondo la versione nerazzurra al contrario Non esiste contatto fisico fra Zenga e Casiraghi Che lo scavalca e termina a terra Rigore quindi da non concedere Batte dal dischetto Baggio e realizza la rete dell'1-0 Nella ripresa al 37esimo È Carnea de Galia a scrollarsi di dosso i panni del Gregario Superando prima Montanari Poi Ferri e quindi Zenga 2-0 Allo 44esimo infine Giulio Cesare interviene in area bianconera su Berti E Baldas decreta il secondo penalty della partita Lo batte Matteus e accorcia le distanze 2-1 Nella primo tempo le due squadre avevano reclamato il calcio di rigore in altre occasioni La Juventus al 26esimo per una spinta ai danni di Casiraghi L'Inter al 45esimo per un intervento di Giulio Cesar su Matteus In entrambi i casi Baldas ha detto di no Il nostro comminto comincia dai vincitori Fra i quali ancora una volta non è stato schierato Marocchi Se non nel finale Si è vista l'ormai abituale Juventus a due velocità Autoritaria sino all'1-0 E rinunciataria dall'1-0 in avanti Coler e Giulio Cesar sono stati impeccabili Schillaci colpito da uno stiramento meno lucido di altre volte Mentre a centrocampo è piaciuta la grande abbregazione di Galia, Reuter e Alessio Si tratta di vedere ora quanto potrà reggere un assetto tattico senza uomo guida Perché Marocchi non c'è E un Baggio in progresso resta comunque a metà del guado L'Inter ha trasformato il contropiede del primo tempo Nel forcing della ripresa Con un pregio e due difetti su tutti Il pregio è la partecipazione corale al pressing e alla manovra Dei secondi 45 minuti di gioco Che ha messo spesso in difficoltà i padroni di casa I difetti sono stati Da un lato il numero ancora limitato di occasioni rispetto allo sforzo prodotto E dall'altro le improvvise sbandate della retroguardia su entrambi i gol Ascoltiamo ora le interviste di Franco Costa Ma non prima di avere ricordato la figura di un maestro di giornalismo e di vita Giglio Panza Era il mio Juventus migliore rispetto a quella domenica scorsa Cioè hanno giocato bene Hanno giocato molto bene È deluso? No, perché? Io rimango deluso solo dalle cattive prestazioni della mia squadra Quando ha tirato il rigore Matteus, quello del 2-1 Lei si è voltato? Sì, perché avevo detto a Tacconi quali potevano essere le intenzioni di Matteus Stefano ci è andato molto vicino Una maglietta da ricordare questa? Ma sì, sicuramente Il gol non li fai tutti i giorni Io poi era un paio d'anni che non riuscivo a fare in campionato E quindi mi dà più soddisfazione C'era un periodo in cui quando entrava in campo il pubblico la fischiava Nessuno la intervistava La vita cambia No, so che da un momento all'altro potrebbe risuccedere quello che è successo L'importante è non demordere mai Lavorare, stare bene con la famiglia e andare avanti Sono rimasto molto deluso da questa Juventus Però ha vinto L'importante nel calcio è vincere Adesso noi dobbiamo proseguire Visto che ci hanno dato 7 punti il Milan e 6 punti la Juventus Se non è ancora terminato il giorno d'andata Se le cose vanno all'incontrario potremmo ancora farcela Però giocando come nel secondo tempo gli ultimi 10 minuti Grazie Berti, complimenti L'Inter 20 tiri, 2 gol Il Genoa 2 tiri, 2 gol Il trittico Milan-Juventus-Genoa ha fruttato ai nerazzurri soltanto 2 punti E la difesa ha incassato 5 reti Cifre spietate come si vede Ma un Inter che sul piano dell'impegno è encomiabile La difesa genoana sui calci piazzati soffre Tanto pressing dei rosso-blu Che pur giocando in velocità non riescono mai a finalizzare Breme ed Eranio si controllano sulla fascia In mezzo la battaglia per il possesso della palla è talvolta dura Il rientrante Bianchi dà qualcosa in più alla manovra nerazzurra Matteus è l'organizzatore del gioco Si avverte l'assenza di Berti già indivisa da Babbo Natale Tutto tedesco il primo gol Breme buca la difesa genoana E' un vantaggio meritato per la squadra di Orrico E se i rosso-blu non avessero da ridire per questo intervento di Montanari Che trascina Aguilera nella polvere Sarebbe una partita a senso unico per le occasioni da rete Baggio è assai bravo nel controllare il ruotolo e tentare anche qualche sortita La cerniera rosso-blu con Bortolazzi e Onorati non cede La svolta della partita quando esce Klinsmann per un acciacco al ginocchio Entra Fontolan che non riesce a portare il colpo del KO La partita cambia rapidamente Guardate cosa combina la difesa interista sul gol di Aguilera ispirato da Scurari E' un Inter che passa momenti difficili dopo l'uscita di Montanari E subisce il gol di Eranio che lascia perplesso Zenga Sembra una giornata storta Con Pizzi però l'Inter torna a premere ed il Genoa ricomincia a tremare Desiderio e Matteus cercano il bersaglio e si rivede una squadra tonica Che però rischia molto sul contropiede genoano sempre pericoloso Quando Pizzi riesce a pareggiare su un rimpallo favorevole Torna il sorriso in casa interista e molti hanno la sensazione di poter vincere ancora E giù tutti all'assalto Braglia fa i salti mortali e tira un sospiro di sollievo Allorché questa palla di Matteus finisce sopra la traversa Ma così Natale per l'Inter sarà meno triste? Sentiamo Paola Ferrari alle prese con Montanari Pochi tiri in porta da parte del Genoa, solo due e due gol Non è un po' troppo per la difesa neroazzurra? Beh sì, diciamo che non abbiamo la fortuna da nostra parte Ci fanno pochissimi tiri in porta e adesso sono sempre a fare gol E quindi ci sarà qualcosa da rivedere A quest'Inter basta il pareggio per essere felice? Noi andiamo in campo tutte le domeniche per cercare di vincere A volte non ci riusciamo, stiamo giocando bene quindi siamo abbastanza soddisfatti Un ricco dopo aver incontrato Milan, Juve e Genoa tira questa conclusione Tira una conclusione molto saggia Che è quella che in tutte e tre le gare l'Inter è stata protagonista E il fatto è che con la logica del gioco bene Con la logica della classifica cataluni leggono sempre E il discorso può essere diverso E beh ma quando una squadra riesce a centrare l'equazione gioco e risultati Diventa una squadra imbattibile Mister Bagnoli, il Genoa viene sempre a San Siro, gioca bene però non riesce a vincere Se forse vincevamo probabilmente l'Inter non meritava di perdere chiaro Però visto le tante volte che sono sempre uscito con le mie squadre con il rammarico Forse anche se una volta uscivamo con qualcosa di più del meritato ci poteva anche stare Chiamiamola zona Suarez Fatali gli ultimi scampoli di gioco per l'Inter raggiunta in extremis a Foggia domenica scorsa Favorevoli invece questo pomeriggio lo Zini di Cremona Lanciato da un cross di Ciocci, corretto di testa da Bonomi Klisman segna il 91esimo e porta l'Inter al quarto posto in classifica insieme a Torino e Parma Questo l'esito del recupero della quindicesima giornata Quando il 5 gennaio scorso Cremonese e Inter furono fermate dalla nebbia Apre Matteus con slalom e tiro di esterno destro di poco alto Ma Favalli insieme a Verdelli e Floriancic, tra i migliori nella Cremonese Risponde tanto per far capire a Suarez che per l'Inter la partita sarà dura almeno quanto un pezzo di torrone La deciderà Klisman la partita ma il tedesco anche oggi ha messo in mostra in pari misure impegno e imprecisione A centrocampo c'è un Matteus alla Suarez e un Berti che ha masticato più degli altri Gli insegnamenti di Orrico, ovvero correre più che si può Proprio di Berti un gran tiro in apertura del secondo tempo Poi un tocco su punizione di Matteus per Breme che ha sempre un sinistro da brivido per qualunque portiere Berti continua a correre, qui lo ferma Rampulla Klisman nell'occasione lanciato da Fontolan a piedi dispettosi che raramente seguono le sue buone intenzioni Così la Cremonese sfiora il golpaccio con una combinazione dei terzini Favalli e Gualco Poi Ciocci subentrato a Fontolan e ispira il gol partita Segna Klisman ed esulta Tanto impegno in fondo va premiato Luis Suarez quasi vittoria a Foggia, vittoria a Cremona con un po' di fortuna E questo è l'Inter che voleva? Vabbè diciamo che nel compito delle due partite forse sì Però non direi solo fortuna Penso che abbiamo avuto le nostre occasioni prima Per cui era meglio se le facevamo così non soffrivo così tanto Gagnoni non è stata una Cremonese fortunata? Ah decisamente, il pareggio ci stava tutto I ragazzi hanno fatto un'ottima partita Diciamo che hanno giocato alla pari con l'Inter Quindi i ragazzi meritavano miglior sorte di questa beffa finale Indubbiamente ci penalizza eccessivamente Ed è una brutta botta considerando che per noi i punti valgono doppio Se poi si ottengono con l'Inter hanno ancora un peso maggiore E' stato il pomeriggio della grande rabbia e dei grandi sospetti Mai Pellegrini avrebbe pensato di subire una simile contestazione Dopo una partita brutta ma vinta Così i giocatori interisti che dopo aver sopportato parecchi inviti a cambiare mestiere Pensano adesso che contro il loro presidente sia in atto una vera congiura 500 ultrane razzurri hanno atteso l'uscita degli ex beniamini Per manifestare la loro feroce delusione E Pellegrini uscendo a piedi dal tunnel del garage che porta gli spogliatoi Ha pensato di sfidare tanti contestatori tentando la via del dialogo In verità con scarsa fortuna Siamo la barzelletta d'Italia Ad aiutarlo in futuro Dovranno dunque essere più che mai Matteus e compagni Oggi contro il Bari deludenti e anche sfortunati Lo stesso Enrico che contro i penultimi in classifica ha impiegato all'inizio una sola punta Klinsman con il finisseur Pizzi a supporto E con il debuttante Angelo Orlando approssimativo a centrocampo Dovrà decidersi a trovare in fretta una fisionomia più funzionale e credibile per la sua squadra Con migliori aperture laterali del gioco Noi abbiamo raggiunto dei picchi di buon gioco E non abbiamo raccolto nulla o poco nel mese di dicembre Il destino vuole e dice oggi con la gara di oggi che giocando male abbiamo vinto E allora facendo la somma tra i due valori che ci sono capitati Riteniamo sempre di avere la coscienza a posto Il Bari che nel primo tempo mette i brividi a Zenga con il bravo Soda Nella ripresa vada troppo a difendersi con il portiere alberga E impegnatissimo anche a chiedere carezze alla buona sorte Sul tentativo volante di Ciocci sostituto di Pizzi E Fontolan rimpiazzerà Paganin L'impressione è che l'arbitro fabbricatore abbia comunque ragione con la palla che non supera la linea bianca Quindi ecco Mateus è sufficiente ma non ancora trascinante colpire il palo A tre minuti dalla fine proprio nel momento degli insulti Il gol della fin troppo focosa liberazione nera azzurra Con l'assist del Tenace Berti per Klinsman alla seconda rete stagionale L'ultima mezzo si è vista una grande inter A fine incontro vi siete riuniti al centro campo Abbiamo solamente fatto questo per forse far vedere che questa squadra è unita E ha tanta voglia di vincere ancora E dopo Berti Bergomi sempre sul tema tifosi Messaggio al pubblico che vi ha contestato Ed è rimasto poi sbalordito quasi ingannato dal fatto che in fine conti avete fatto gol Ma non lo so oggi è una reazione secondo me un po' strana Non capibile perché Insomma nel primo tempo magari viene giocato così così Nel secondo tempo la squadra ha lottato ha dato tutto quello che aveva dentro Ed ha vinto Per il Bari del volitivo Platt Dopo la doccia gelata del gol di Klinsman Anche l'espulsione per doppia munizione del talentuoso Boban Sentiamo Boniek Se fosse il nostro sbaglio più grande era questo che non siamo riusciti mai a A rallentare un po' gioca A tenere palla a centro campo per agire un po' la difesa A meno 6 dalla zona salvezza Terra Cenere pensa già alla sfida al Verona Il Verona alla quarta giornata di ritorno dovrebbe venire qui a Bari E senz'altro faremo di tutto per portare in porto due punti Nella sala stampa di Bergamo oggi alle 16.35 Abbiamo capito come nel calcio dei miliardi e dell'opportunismo Esistono ancora uomini che al di là dei propri errori Sappiano restare coerenti soprattutto verso se stessi Ritengo che la mia presenza qui all'Inter A questo punto qui sulle valutazioni che faccio io sia più negativa che positiva Quindi è bene che tolga il disturbo e siano altri a proseguire il lavoro Ma pensa di essere il colpevole di questa situazione Visto che i giocatori in fin di conti sono quelli che vanno in campo No, no, io credo di sennò non dare le dimissioni se i colpevoli fossero altri Quindi credo mi piglio tutte le responsabilità di questa vicenda E purtroppo ho fallito io Non l'idea che volevo portare all'Inter Che secondo me è valida E mi auguro che anche se sono affari non più miei Che sia proseguita questa idea Che mi pare lodevole e degna ad un club come l'Inter Dimissioni irrevocabili quindi Con queste parole, con questa faccia più sofferta che mai Corrado Enrico ha dunque sorpreso tutti Risulta che in serata Enrico e Pellegrini si siano parlati E che il presidente abbia preso atto, come si dice in questi casi Della decisione del tecnico Domattina ad Appiano Gentile sarà dunque annunciato il nome del sostituto Due le soluzioni, quella interna con Giampiero Marini E quella esterna con il clamoroso ritorno di Luisito Suarez Visto già oggi a San Siro Ma ora sentiamo i giocatori Ferri, Berti, Matteus e Zenga Il spiacere è di buttare all'aria sei mesi di lavoro E di conseguenza, non so, trovarsi in una situazione Che non si sa come andrà a finire Qualcuno sicuramente non ha Non ha fatto quello che l'allenatore ha chiesto E siamo andati in difficoltà Perché questo è un gioco dove bisogna essere in undici Ma anche sotto Trabatoni abbiamo iniziato poche partite così Ma non è un motivo per smettere il lavoro Sbaglia Orico volersi dimettere? Ha sbagliato l'Inter a fare pochi punti, non Orico dimettere La partita ora con l'Atalanta che per la vicenda Orico Quasi vede messa in secondo piano la sua bella e meritatissima vittoria La squadra bergamasca che nelle precedenti sette partite casalinghe Aveva conquistato solo cinque punti Nella prima mezz'ora esprime un calcio di gran ritmo e tecnica Andando al tiro ben nove volte Con Zenga prima providenziale su Piovanelli E poi fortunato nell'azione del palo di Canigia Lanciato dall'ispirato Perrone Tanta aggressività, tanta velocità Con l'ex Minaudo e Nicolini o Mini ovunque Non possono non produrre danni in un Inter Che se vorrà continuare a fare la zona Dovrà unirvi un minimo di pressing Anche nei suoi uomini più rappresentativi A salvarsi oltre a Zenga Sono stati Baggio e in parte Breme, Pizzi Sostituto del dolorante Ciocci e a volte Mateus Ed eccoci all'episodio decisivo Con Canigia ostacolato da Paganin E l'arbitro sguizzato che concede il rigore Trasformato dal piede brasiliano di Bianchezi Poi nella ripresa qualche reazione dell'Inter Mista paura a Talantina Ma ancora occasioni per i locali Un salvataggio di Ferron su Bergomi a tempo scaduto Da ricordare anche un possibile rigore Negato all'Inter per questo intervento su Berti E le espulsioni di Ferri E, forse eccessiva, di Piovanelli Decise su segnalazione del guardaline Isola Oltre a qualche oggetto di troppo Che ha colpito nel convulso finale Mateus Per chiudere i complimenti di Giorgi ai suoi Direi che sono stati perfetti Interessante ma con le mani bucate La nuova Inter di Suarez Non le bastano due gol di vantaggio E un uomo in più Per battere il Foggia dei Miracoli Oggi splendido nel suo slancio finale C'è lo Zaccheria delle grandi occasioni Per l'arrivo dell'Inter Che fa accomodare in panchina Un pilastro della sua leggenda Luisito Suarez è l'uomo della restaurazione E la strada scelta per la credibilità Del dopo Orrico E quella della solidità difensiva Con Ferri squalificato E Montanari indisponibile Battistini festeggia i 250 gettoni in Serie A Piazzandosi dietro tre marcatori Bergomi, Paganin e Breme Il centrocampo nerazzurro Con Berti nella versione migliore Sostiene le due punte Klinsman e Fontolani Con un avversario che concede pochissimo In macchiatura Il tridente Baiano Signori Rambaudi Non riesce a fungere come di consueto E i rari passaggi a vuoto Della difesa interista Non vengono sfruttati a dovere La scossa che elettrizza l'incontro Arriva alla mezz'ora Berti va giù Sull'attacco di Codispoti L'arbitro Ceccarini Concede un rigore Che al Foggia Proprio non va giù Codispoti ha commesso No fallo su Berti Ma io direi che Lui ha vinto il rimpallo con Petrescu Stava per calciare in porto Ho messo la gamba A quel punto lui Ha cercato la mia gamba Si è allungato la palla E si è tuffato La trasformazione ad opera di Matteus E piega le gambe al Foggia Costretto ad accentuare Le sue caratteristiche di squadra aperta Rambaudi non sfrutta L'assistenza di Baiano Poi lo show Bello quanto sterile Dell'Inter La difesa rossonera Fa acqua da tutte le parti Klinsman esibisce un destro Non all'altezza di un campione del mondo Ma si riscatta Invitando Berti Alla fondo vincente Mancini paga a caro prezzo L'intervento alla disperata fuori area Gol evitato Ma a cartellino rosso E relativa a consolazione Da parte di Zenga Con il sacrificio di Rambaudi Tra i pali va Rosin Che a freddo Risponde alla punizione di Matteus L'intervallo non cambia il copione E all'ottavo della ripresa Klinsman indisturbato Capitalizza il cross di Bianchi Ci si chiede quali siano le chance del Foggia Che in inferiorità numerica Può scegliere solo la strada dell'agonismo L'Inter sembra scherzare E nello spreco delle occasioni Si legge chiaro il peccato di sufficienza Ciocci sostituisce Fontolan Signori lascia il posto a Kolivanov E intanto il Foggia Caparbi o quanto umile Gioca le sue carte Sperando di pescare almeno il jolly della speranza Anche perché l'Inter di chiudere il match Proprio non ne vuol sapere Il patatrac interista Ha un arco di 5 minuti Insistenza di Kolivanov Trova il premio del penalty Sull'intervento di Dino Baggio A digiuno da oltre due mesi Ciccio Baiano fa centro dal dischetto La bella addormentata nerazzurra Si risveglia nell'incubo Zenga può opporsi a Petrescu Solo la prima volta Poi il romeno trova il gol Che vale l'apoteosi dello Zaccheria Per un pariggio Sul quale nessuno avrebbe scommesso Nelle dopo partita Il primo a parlare è Suarez Se noi andiamo avanti A giocare così A creare questo numero di occasioni Le partite le vinceremo E che non bisogna Così Prendersela più di tanto Perché può capitare Questo nel calcio Zeman Cosa ha di particolare Questo Foggia Nel panorama del calcio italiano? Ma io penso La voglia di lottare La voglia di giocare Magari giochiamo spesso Anche troppo Certe volte Certe volte rischiamo molto Ma bisogna cercare Di costruire qualche cosa Perché si sta a dire Che distruggere È molto più semplice Matteus Cos'è cambiato Con Suarez Per l'Inter? No Non possiamo dire Adesso dopo tre giorni Ha cambiato tutto Ma oggi abbiamo visto Abbiamo giocato più veloce Un po' più Con rischio E questa è la differenza Adesso tra Suarez e Enrico Ma vogliamo migliorare Adesso anche nelle ultime settimane Nelle prossime settimane Il nostro gioco La rimaneggiata Roma Ha imposto Una partita intelligente L'Inter si danna L'anima Ma non passa Le mancano Gli opportunisti Dicono che Bianchi Si è il successore Designato di Luis Suarez Che torna a San Siro Dopo 17 anni Certo Non è facile Affrontare un'Inter Galvanizzata Dai risultati del dopo Enrico Senza tanti titolari E con tre giocatori Febbricitanti In campo L'assalto nell'azzurro Portato grazie Alla spinta di Berti Dà l'impressione Di poter mettere In difficoltà I giallorossi Ma il buon assetto Tattico della Roma Inaridisce Il gioco dell'Inter Bianchi dirotta Aldair in avanti A frenare Baggio E a promuovere gioco Marca Matteus Con Salsano E Breme Con Bonacina Suarez Puoi perde Bianchi Per una distorsione Entra desideri Per l'Inter Cominciano Le recriminazioni E le occasioni Perdute Sfiorare il gol Così Oppure Dover sperare Nel rigore Providenziale Per chi attacca Diventa preoccupante Poi Si infortuna Bergomi Suarez Chiama in copertura Baggio E schiera la terza punta Ciocci Bianchi Fa arretrare Aldair Senza l'intervento Di Zenga La Roma Potrebbe andare In gol Col febricitante Giannini Subentrato A Ferla Poi c'è lo show Di Zinetti Che ben sostituisce Cervone Il portiere romanista Se la vede brutta Sul colpo di testa Di Ciocci Traversa E a conferma Della snellezza Della manovra romanista C'è poi un'occasione Mancata da Carnevale Come a Cremona L'Inter Forse spera Di vincere In estremis Ma vanamente Su Zinetti Intanto Piove E invece Dei calci Di rigore I nerazzurri Rimediano Soltanto Ammunizioni Bianchi Una buona Roma Un buon risultato Con una squadra Rimaneggiata Si è rimaneggiata Poi avevamo Tre febricitanti In campo Insomma Hanno fatto Abbastanza bene Stanotte c'è stato L'ultimo attacco Di Questa malattia Di stagione Però Si sono comportati Bene Hanno fatto Una buona organizzazione Di gioco Sono abbastanza Soddisfatto E tornato il sereno Carboni Torna il sereno All'interno della squadra Sicuramente Dobbiamo superare Forse ancora Un momento difficile Secondo me L'Inter Ha già dimenticato La zona Il libero Battistini Si in precedenza Insomma Sia Ferri E Bergamo L'hanno sempre Marcato a uomo Quindi Ritornare Al loro L'oro gioco Se si può dire Appunto Degli anni passati Penso che non c'è stato Un problema Anzi Klinsman E l'arbitraggio Siamo in un paio di situazioni Un po' In cui l'arbitro Ha deciso Al favore Della Roma Io non vorrei mai Essere al posto Dell'arbitro Perché decidere In un secondo In un attimo È molto difficile Luis Suarez È tornato a San Siro Un pizzico di emozione Poi via In campo È 0 a 0 Sì L'emozione è passata Subito Invece La tensione no È rimasta Altissima Fino al novantesimo Al novantaduesimo E purtroppo Abbiamo fatto solo Un punto Invece dei due Che secondo me Meritavamo Ampiamente Grinta cuore Determinazione Ma anche Bel gioco E tante occasioni Da gol sprecate Così il Verona Ha battuto l'Inter Per 1 a 0 Un Inter Che subisce La prima sconfitta Della gestione Di Suarez È sempre lui Eugenio Fascetti Toscanaccio sincero Un uomo Che ama dire Sempre l'ultima parola Ma soprattutto Uno che ama La verità Nella vittoria Di un Verona Quasi al completo Mancava il solo Prizza Che è stato preferito Ma Green Proprio all'ultimo minuto C'è sicuramente La sua firma E il carattere Dell'allenatore Si è rispecchiato Al meglio In una squadra Che con Grinta Bel gioco E determinazione Si sta tirando fuori Dalle sabbie mobili Della zona retrocessione L'Inter Dall'altra parte Della barricata Non mancava solo Dello squalificato Mateus Ma anche di Bergomi E all'ultimo minuto Di Dino Baggio La formazione Di Riusito Suarez Comunque non gioca Un buon calcio I suoi attacchi Sono lenti e prevedibili E al ventitreesimo Sul rapido contropiede Arriva il gol Di Ezio Rossi Ben ispirato Dal romeno Raduccio Reagisce l'Inter Ma all'orgoglio Prende il sopravvento Sulla scarsezza Di idee E così il Verona Controlla senza Troppi affanni Nella ripresa Continua la sterile Pressione dei Nerazzurri Ma il Verona In contropiede Ad avere le migliori occasioni Riccardo Ferri Viene spulso Al dodicesimo Per un fallo di mano Dall'arbitro Luce I padroni di casa Hanno così ancora più spazio E lo slavo Stojkovic Dopo una lunga assenza Quasi due mesi A tratti Mostra il suo Eccezionale bagaglio tecnico Gli stranieri Ma non solo loro Della formazione veneta Si danno molto da fare E il lavoro per Zenga Non è dei più semplici Finale del match E' ancora pieno di patos Un gol di Calisti Viene annullato Dall'arbitro Per fuorigioco Segnalato Con largo anticipo Dall'guardialini Due minuti dopo L'azione del calcio Di rigore Zenga è costretto Di uscire a valanga Su Pellegrini Subentrato da qualche minuto A Magrin E non sembrano esserci dubbi Di alcun tipo Qualche dubbio Invece lo ha solamente Stojkovic Stanchissimo Che spedisce il pallone Quasi in curva Ma i tifosi veronesi Va bene anche così Facetti Se Carattere e Grinta Facessero classifiche A stare in lotta Per la UEFA Ah si insomma Fino adesso Eravamo proprio Io dico I 13 punti 14 punti L'abbiamo proprio L'abbiamo fatto I coi denti Oggi abbiamo visto Cosa può fare Il Verona Al completo Tu avevi vinto Nesta partita No ma Ti dico che I primi 20 minuti Sono stati abbastanza Diffici Perché Non riuscivamo A uscire in contropiede Fatto il gol Allora Siamo stati Abbiamo interpretato Bene la partita Inter che perde Zenga migliore in campo È un segno Di un malessere? No Segno che Personalmente Mi alleno bene Personalmente Riesco a Mantenere la concentrazione Poi ne faremo Volentieri meno Di essere migliore in campo E che l'Inter vinca Però Non sempre può essere così Il problema dov'è? Non lo so Io sono pagato Per fare il portiere Per parare Sono altri che devono Stabilire dove sono i problemi Non decisamente io Che hai pensato Quando hai visto Quella grande parata Di Gregori? Ho pensato Prima di tutto Che Gregori è molto bravo Questo Va a suo Vantaggio E che Davide Fontorano Veramente In un anno In cui non gli aveva bene Neanche uno a lui Perché È incredibile Ha fatto una cosa eccezionale Ha trovato un suo collega Che ne ha fatto uno ancora più grande La Sampdoria ha meritato il pareggio Ed ha sfiorato anche la vittoria L'Inter Generosa e rimaneggiata Ha un grande problema Quello del gol I grandi assenti sono Berti e Breme Per i Nerazzurri Catanez E Mancini Per i Blucerchiati L'anno scorso Inter e Sampdoria Lottavano per lo Scudetto Oggi Mendicano la zona UEFA I tentativi di confondere le idee Agli avversari Mescolando numeri E marcature Non regalano a Suarez Molti vantaggi La verità È che all'Inter Manca la forza propulsiva Di Berti Che Matteus In settimana Ha sprecato troppo fiato Per polemizzare Che i Nerazzurri Non sono abili Nel tiro al bersaglio E che magari Qualche arbitro Caritatevole Avrebbe giudicato Più severamente Il tamponamento Di Serezo Ai danni di Fontolano L'impegno c'è Non ci sono dubbi Ma che volete Gli dei della palla Bisogna saperseli Ingraziare Bisogna dire però Che fare i conti Con una Sampdoria Determinata e organizzata Non è facile per nessuno Dieci settimane Di risultati positivi Un vialli Che si muove bene Dopo 15 giorni Dietro la lavagna E voglia di combattere Per la patria E per il contratto Sì È vero Corrono qualche pericolo I duriani Perché le fiammate Di Fontolano E Klinsmann Scaldano l'ambiente Ma la temperatura Resta condominiale Non si superano Certi limiti Entra Ciocci E l'Inter Tenta di forzare Il dispositivo Difensivo dei Liguri Ma i Nerazzurri Non hanno problemi Solo davanti Anche in fase Di ripiegamento Qualcosa scricchiola È buon per Zenga Che Matteus Per una volta Si riveli Suo alleato Sulla girata Di Buso Insomma Il solito Refrain Di occasioni perdute Di tiri sbagliati Di fischi Di amori spezzati Di programmi bruciati Quasi come nelle canzoni Di Sanremo Dove più si piange E meglio è Grazie dei fiori Stimolato da Paola Ferrari Luisito Suarez Ritrova il suo sangre Caliente Sono state tante polemiche Anche durante questa settimana Per lo spogliatore Dell'Inter Continua a mancare Un po' la tranquillità No Se la polemica Vi riferite A quello che ha detto Matteus Io Come esperto Di calcio Di tanti anni Se tutte le polemiche Che ci sono nel calcio Fossero come quelle Guardi che le firmo subito Perché è proprio Una cosa che è ridicola Secondo me Io non faccio Una critica Io non voglio criticare Tutto Io volevo Stimolare tutto Anche con me Abbiamo giocato male Anche forse Io non ho giocato Sempre bene Nella nostra squadra Non è dentro Una sicurezza 100% Abbiamo visto I risultati Delle ultime settimane Il casino In giornali Anche il fischio Del pubblico Non Sono bene Per noi Perché noi Vogliamo provare Sempre tutto E anche oggi Abbiamo fatto tutto Per segnare Ma Non abbiamo segnato E questo È il nostro problema E mentre Matteus Va via Con la Topolino Ultimo tipo Catalizzata C'è chi rischia Di perdere La corriera Come Pagliuca Penso che una squadra Ha giocato molto bene Si è stata La Sampdoria Ha creato qualche Palagol L'Inter Ha creato solo Quelle occasioni Sui nostri errori Moskov si è molto lamentato Per il terreno di gioco Lei come l'ha trovato? Ma io Fortunatamente Dalla mia Io gioco in porta Quindi In porta era abbastanza buono Sicuramente Quelli che giocavano A centro campo Erano molto danneggiati Ma andiamo con ordine Ennio Allora Primo tempo molto deciso Dell'Inter Che ha attaccato Con continuità Bloccando la Lazio Nella propria metà campo Fiori Qui ferma In due tempi Il tiro di Matteus Un Matteus ritrovato Che per un'ora Ha fatto la differenza In campo Vediamo qui una mischia Nell'area laziale Ci sono tiri Respinte E rimpalli Fallo di mano Qui involontario Alla fine ciò Ci potrebbe segnare Ma manda altissimo Al ventitresimo Fallo di mano Di Soldà Che devia con il pugno La parabola Su calcio d'angolo Rigore indiscutibile Ha segnato subito Dallo Bello Matteus batte con forza E segna 1 a 0 La Lazio Che fino a quel momento Era stata in difficoltà Nell'organizzare il suo gioco D'attacco Arriva vicinissimo al gol Con un bolide di Ruben Sosa Molto bravo Zenga Le parti alla fine Si sono accontentate Ma né Fiorentina Né Inter Possono dire Di aver accontentato Il pubblico Perché lo spettacolo Che hanno offerto Non era certo All'altezza del costo Del biglietto Cioè con qualche vibrazione In più Si è continuato Sulla falsa riga Dell'ultima partita Casalinga con il Milan Lo 0 a 0 Va ricordato Con l'eccezione Questa volta Del brivido del gol L'unico momento Di fantasia E di spettacolo Interista Squadra Alla ricerca Di una rigenerazione Anche psicologica Come dice subito Luisito Suarez C'avevamo un problema C'era un po' Psicologico Di questa eliminazione Inmeritata E soprattutto Di 120 minuti Che abbiamo fatto Mercoledì Che questo non è E abbiamo trovato Un primo caldo Così che noi Non siamo abituati Dalle parti nostre Insomma Anche quello Vuol dire qualche cosa Nel primo tempo Dunque Inter è più bella E più fresca Non solo per il gol Nato dalla fantasia E dalla potenza Di Bianchi Con la giunta Determinante Della rovesciata Spettacolare Di Fontolan Da applausi Un gol Che concludeva Quasi mezz'ora Di gioco A sfittico Dopo la partenza Vevace Della Fiorentina Grazie all'apporto Di un Orlando Che poi si è spento Poco dopo Sì è vero È partito molto Molto bene Devo dire la verità Mi sono fatto condizionare Da alcune Da alcune frange Di tifosi Che secondo me Hanno influito Nel mio rendimento Comunque non ci sono problemi E sarà per la prossima Volta Prima del gol interista La Fiorentina Aveva tentato Con Iachini Battistuta Maiellaro L'abbia di un vantaggio Forse non cercato Con la determinazione E la lucidità Di altre volte Quasi una pacchia Per Zenga e company Il duello atteso Tra Ferri e Battistuta C'è stato A volte liberante Anche duro Mai cattivo Sempre nelle regole E Ferri si è tolto Un bel pensiero Ma è stato un duello Devo dire leale Un duello Giocato con la palla Soprattutto E tutto sommato Penso che sia finito In parità Forse l'Inter Quando si torna in campo Per la seconda parte Commette l'errore Del parsimonioso Modo di amministrare Un vantaggio Senza condimenti Di pericolosità Si accuccia davanti A Zenga E rischia In un paio di occasioni Sempre con Carobbi Diventato punta La pressione Dei padroni di casa Raggiunge lo scopo E tocca Al migliore in campo Forse Beppe Iachini Che ha quasi azzerato Mateus A beffare Zenga Una mano Gli era la propria Battistuta No no Battistuta voleva Deviare la palla E la presa Un po' sporca E quindi non c'è stata Intenzionalità Del fallo E poi la palla Carambolata Mi sono più in base Su questa deviazione Ho cacciato di prima È andata bene Ha fatto gol Uno a uno E fatti salvi Due tentativi Di schiodare il risultato Di faccenda E di ferri La prudenza Regnerà sovrana Fino alla fine Per paura di azzardare Come dicono gli allenatori E lo stesso Cecchigori Non eravamo noi Che dovevamo azzardare Perché se giocava In casa della Fiorentina Vincevamo una a zero Loro non azzardavano Perché dovevamo azzardare noi Perché cosa Non ci siamo mai Tutte e due Riusciti a dimostrare Il nostro Miglior gioco E di fatti abbiamo Procurato anche poche occasioni Da gol Comunque era anche difficile Non era semplice Questa gara Quindi l'uno a uno Non fa male a nessuno No non fa male Noi speravamo Dove un po' più bene Che male Però Va benissimo Venire da Rovigo Per morire a 17 anni Buttandosi da una delle torri Di San Siro Ma è possibile? Questo La ghiacciante prologo Di Intercaiari E la partita? La partita ha dato al Cagliari La conferma di una salvezza possibile All'Inter Quella di una nata da dimenticare Un giù le mani da Fonseca E un avviso agli arbitri Sono i titoli di testa Di un film già visto C'è la stella cadente Klinsmann E l'attore giovane Del vecchio Non c'è Fontolan E Matteus Pretende subito La parte del protagonista Ma la storia Non è a lieto fine Segnare per i nerazzurri È un'impresa titanica Bianchi ha dei problemi Il Cagliari È un avversario quadrato Sa quel che vuole È decisamente minaccioso La verità è che La coperta nerazzurra È troppo corta Mancano certi equilibri Ed è una questione cerebrale Oltre che tecnica Sbagliano tutti A turno E non si sa Dove finiscano Gli errori di un reparto E comincino Quelli di un altro È fatale Che precipitazione Ed affanno Portino A mancanza Di lucidità Nel primo tempo Tuttavia I nerazzurri Riescono a tenere Sulla corda L'avversario Nella ripresa Dopo aver buttato via Un inatteso regalo Dei Rosso Blu Comincia per i nerazzurri Una fase Non certo felice E Zenga Commenta così I propri salti mortali Sì ma Menti i salti mortali Faccio fare i miei compagni Se non recupera Lothar con la palla Sulla riga Io preferirei Decisamente Uscire da San Siro Senza toccare un pallone E vedere la mia squadra Che vince 3 a 0 E gioca bene Tutti avrebbero La Catalano No Mettiamo Catalano in porta Vediamo cosa dice lui Come vedremo ancora Il pareggio diventa Già un buon risultato Per i nerazzurri Il Cagliari Sfiora la vittoria E Mazzone È soddisfatto Secondo me Ha giocato molto bene La squadra Cioè Non ha Solamente distrutto Il fatto stesso Che Zenga Penso che sia stato Uno dei migliori Giocatori dell'Inter In campo Questo Già la dice lunga Ecco Fonseca Avete sfiorato addirittura Il colpaccio No? Sì Purtroppo Zenga ha fatto La parada Ottima Speriamo continuare così Fino A trovare la salvezza Che è lo che Più ci auguriamo adesso È sempre lo stesso Ritornello Può stancare Può stufare Ma è la verità Cioè Iniziamo bene Abbiamo questa occasione Non riusciamo a farle Dopodiché Ci smarriamo un momentino Ci nervosiamo E ripeto Concediamo Delle occasioni Anche all'avversario Perché ci possa anche colpire Da Suarez A Berti I problemi dell'Inter Uno se ne intende di calcio Li vede Non sta a me Dirli qui in televisione Cercheremo di Risolverli tra di noi Cosa che però Per il momento Non li abbiamo risolti Siamo dall'inizio Certo Se al Napoli Fosse stato concesso Anche uno solo Dei quattro rigori Inboccati In campo E dagli spalti Si sarebbe detto Che i lamenti settimanali Funzionano L'arbitro Pairetto Allora Ha sorvolato su tutto Danneggiando così Il Napoli Facendo scaturire Altre polemiche Altre rampogne Secondo me è stato anche Il primo tempo Dove volevo saltare Mi ricordo che Stavo mi marcando E ho preso Una botta Proprio Soll'attiva Poi In questo Secondo tempo È stato Proprio Di gol mancati E di fatti Che con il calcio Giocato Hanno poco da spartire A noi Per coerenza Professionale Il compito Di documentarvi Anzitutto Sull'evento agonistico Intanto Avete eseguito Il primo In ordine cronologico Dei penalty Della serie Non ho visto niente Un pareggio Fortemente voluto Dall'inter nervosa Di Suarez E lo si intuisce Quando il tecnico Spagnolo Manda in campo Anziché desideri Uomo di spinta Il più prudente Paganin Con Orlando Fisso a controllare Zola E poi Il giovanissimo Del vecchio Tradito dall'emozione O dalla bravura Di Galli Sullo schieramento Destro Dei neroazzurri Il Napoli Trova il punto Devole Con Pusceddu E Alemau Affonda ripetizione Anche se Chi colpisce È il rinomato Zola La cui sbella Da quasi 20 metri Brucia le dita di Zenga Un gol È una partita Più che buona Per ricordare a Sacchi Che contro la Germania Può esserci anche lui È vero Zola? No io non devo lanciare Nessun messaggio Vado avanti per la mia strada Senza pensare a nessun E Cripa sulla fascia destra Controlla il peggiore breme Mentre De Napoli Che oggi compie 27 anni È il centrale Opposto a Matauso Molto prudente Nella sua metà campo Anche per questo Il Napoli dilaga Ma spreca occasioni Eccezionali Per raddoppiare Su Arezzalora Torna l'antico Richiama Paganini In panchina E propone desideri Ma attenzione Di desideri Ne parleremo ancora Per ora guardate Cosa costa Zenga Questo intervento Errato e poi corretto Dallo stesso guardaline Per un presunto Fuorigioco di silenzi Per altro passivo Protesta Zenga E si becca una munizione Forse avrebbe meritato Qualche cosa in più Per ciò che ha detto Il nervosismo Denunciato poi anche Negli spogliatoi Seppure con il sorriso Sulle labbra Le costerà la squalifica Al prossimo turno Zenga? Lei l'ha diffidato? Non rispondo a queste domande Se vogliamo parlare Della partita Lo facciamo Va bene Allora parliamo Della partita C'era molto nervosismo In campo Da parte vostra Lo dice lei? No Visto che avete un po' Protestato Specialmente nella prima parte Di gara La sua opinione Va rispettata La Moviola numero 2 Ve la proponiamo Richiamandoci al commento Già fatto da Careca Con il correttivo Del nome di chi Lo avrebbe atterrato Battistini Le proteste Sono appena accennate Perché il Napoli Vince E perché diverte Andando vicino A raddoppio Una, due e tre volte Quando commette Errori difensivi Ha la fortuna Di vedere sbagliare Anche gli avversari Una sagra di errori Che si conclude Solo perché Il signor Pairetto Manda tutti Negli spogliatoi Per il riposo In perterrito però Anche nei secondi 45 minuti Fontolani insiste E si aggiudica Dopo una bella lotta Con Careca La palma del migliore A dare altro gusto Alla gara Ci pensa Desideri Che dopo aver segnato Il pareggio Fa sentire la sua voce Polemica a Suarez Evidenziando a tutti Quali tensioni Esistano tra la squadra E il tecnico Suarez Un pareggio Che muove la classifica Dell'Inter Fa bene naturalmente Rigenera un po' tutto Forse anche lo sfogliatoio Ma una tiratina d'orecchia Desideri? No Quello che mi interessa a me È il punto Come ha fatto la partita I ragazzi Soprattutto dopo essere Andato in svantaggio Poi per il resto Sono cose che metteremo A posto piano piano Tempi ancora grigi Per l'Inter dunque Mentre la platea Del San Paolo Si diverte di meno Quando viene atterrato Silenzi E Paeretto Dice ancora di no Anche perché Vede gli azzurri Spegnersi sul piano atletico Ed anche su quello tattico E la vittoria possibile Dunque si allontana Nelle sostituzioni Di Montanari Per Ferri E di Silenzi Per Padovano Mutano alcunché Per questo L'atterramento di Careca Alla mezz'ora Fa scatenare l'ira Per fortuna Solo vocale Dei 60.000 Ma come mai Questo Napoli Manca all'appuntamento Nel momento decisivo Ma manca all'appuntamento Oggi ci siamo andati Molto vicino Abbiamo lasciato Tre palle All'Inter Una sullo 0-0 Altre sull'1-0 Abbiamo poi fatto gol Abbiamo disputato Una gara bellissima Soprattutto nel primo tempo Ci sono state Molte occasioni Per la nostra parte Non siamo riusciti Però a chiudere La partita E l'Inter Nella prima occasione Il secondo tempo Appareggiata E poi si è chiusa Alla dietro E riuscì A portare in porto Approssimativo E tanti errori Nello 0-0 Di Inter Torino Nono pareggio interno De Nerazzurri Sesto fuori casa Per i Granata In palio La classifica Per la Coppa UEFA Ma di europeo Si è visto poco O niente Giornata negativa Per le maglie Numero 1 Sono stati espulsi Entrambi i portieri Come vedremo Forse ha avuto Fortuna Zenga Fermato dalla squalifica Marcheggiani Appena salvato Da Mussi Su tiro di Fontolan Prima esce a vuoto Poi ferma Un tentativo Di Breme In area Continua la serie Degli errori Accompagnati Da lunghe fischiate Degli spettatori Verso la fine del tempo Marcheggiani Tocca con le mani Fuori area Un pallone alto E l'arbitro Stafoggia Lo manda negli spogliatoi Esce anche Bresciani In porta Va di Fusco Prima del termine Altri fischi Per Fontolan Che spreca Un lancio Di Matteus All'inizio Della ripresa Lentini scatta bene E Breme Lo ferma così L'Inter sfiora Il gol con Baggio Tiro rispito dal palo Poi l'azione sfuma Difesa Granata Sotto pressione Di Fusco Fermo un tiro Di Ferri Va via Lentini Punta unica Isolata Per l'Inter Sono guai Lentini è veloce Nel riprendere la corsa E abate lo stende Altro cartellino rosso Cecotti Diciottenne Si trova improvvisamente A difendere la porta Alle mani che gli tremano Ma almeno lui Merita la piena assoluzione Attenzione Un pizzico di fortuna In più per l'Inter Che ritrova anche I gol di Klisban Un errore di troppo Per Lascoli Che contro avversari Così nobili Anche se per la verità Un po' decaduti Non può certo Permettersi il lusso Di sbagliare Un calcio di rigore L'Inter Si presenta Spavaldi aggressiva Con un centrocampo Tutto votato all'offensiva Con insieme Berti Desideri Bianchi Orlando E Matteus Che giostrano Molto avanzati Dietro alle spalle Di tutti Un breme In veste di libero Con licenza Di sganciarsi Insomma Un atteggiamento Tattico Sprezzificato Che riesce sì A costruire un paio Di opportunità Ma finisce Con l'essere punito Quando scatta Il contropiede Ascolano Perfetta sovrapposizione Sulla zona di sinistra Di Pergolizzi Cross preciso Per Birov Che dà Ai suoi Un grosso dispiacere L'Inter Sembra incredula Ma non muta Atteggiamento Lorieri deve tamponare Su Ciocci e Ferri Ma la lezione Non è servita In i razzurri Che continuano A prestare il fianco Quello destro Dello schieramento Difensivo Al contropiede Marchigiano E Pezzella Fa finta di niente Quando Ferri Affossa ancora Birov In piena area Quando sembra Che l'Inter Contro Questascoli Non riesca più A trovare spazi utili Bianchi inventa Un buon pallone Per Klisman Che evita Un paio di bianconeri Con un eccellente Controllo aereo E Parigia La partita cambia Non tanto Perché l'Inter Ha raggiunto l'1-1 Quanto perché Berti si infortuna E viene sostituito Da Montanari Che agisce In zona molto più arretrata E si fa apprezzare In fase di interdizione E Aloisi Lascia il posto a Mancini Che toglie spazio A Klisman Tutto dunque Sembra ancora più bloccato Di prima Ma è destino Che le emozioni Non manchino In apertura di ripresa Zaini approfitta Di uno svarione Di Montanari E Orlando E quest'ultimo Gli frana addosso E' indiscutibile rigore Che l'arbitro concede Ed è anche il primo Della stagione Per l'Ascoli La sorpresa è tanta Per i bianconeri Che Verwurt Pensa bene Di telefonarlo a Zenga Al quale Non parvero Respingere con un piede E di fronte A tanta generosità L'Inter Non ricambia Pizzicchi Aveva preso Il posto di Ciocci Si fa vedere E da breme Impegnato in uno Dei suoi frequenti Forse anche troppo Sganciamenti Tira su Lorieri Che respinge Proprio su Klisman Che senza neppure Rendersi conto Segna Indecisivo 2 a 1 Il resto Non ha storia I neroazzurri Denunciano Qualche limite Ritenuta L'Ascoli Ha speso troppo E nel generoso Forcing finale Non crea nulla di buono Antirischia Un'ulteriore beffa Questa partita Prendiamolo proprio Con i due punti E poi vediamo Piano piano De sistemare Se è possibile Qualche cosa Questo è chiaro Però nel calcio ci stanno Anche questi tipi di partite Diciamo che è un Per noi molto velo In questo senso Cioè che Magari altre volte Facevamo meglio E non riuscivamo a vincere Oggi abbiamo fatto Magari meno bene E abbiamo vinto A me dispiace tantissimo Anche perché I risultati Domenica dopo domenica Possono anche arrivare Visto l'andamento Del gioco In campo E questo dispiace Doppiamente Perché insomma Qualche punto in più Sicuramente Lo avremmo Non solo meritato Ma era chiaramente Tranquillamente Alla nostra portata Ecco il rammarico E' proprio questo Si è picchiato Veramente molto Nel cosiddetto Spareggio UEFA Ed il Parma Ha messo in difficoltà Un Inter Che già era priva Di Berti E che con l'uscita Di Matteus Ha perso Ogni spinta Offensiva I nerazzurri Nervosi Debbono aver bevuto Troppi caffè Ferri Per questo intervento Salterà il derby Il Parma è al completo E ha idee più chiare Cuoghi Va vicino al bersaglio E i nerazzurri Capiscono che c'è poco Da fidarsi Quando si fa male Matteus Suarez intuisce Che quella può essere La svolta della partita L'allenatore Non riesce certo A nascondere La propria preoccupazione Il tedesco Fresco di polemiche Nonostante la distorsione Al ginocchio Andrà in Germania Da Fox Il pomeriggio Sembra stregato Il Parma potrebbe Approfittarne Cuoghi Osio Zoratto Di Chiara E Grun Creano gioco E preoccupazioni Per Zenga Ora L'unica possibilità Nerazzurra Di portare qualche palla Avanti Pericolosamente È affidata A Bremi Ma anche lui È nervoso E si becca Una munizione Un po' tutto Sembra tramare Contro i tedeschi Il povero Klinsman Guardatelo Sulla sinistra Del teleschermo Comprende A proprie spese Cosa sia La lira Pesante Figuriamoci Le centolire Pesanti Un autentico Macigno La monetina Gli costerà Tre punti Di sutura In finale Di primo tempo Qualche fuocherello Nerazzurro Ed una fiammata Degli emiliani C'è il pompiere Zenga A estinguere L'incendio Provocato Dal bravissimo Grun Nella ripresa Nessun pericolo Per le coronarie Lo 0 a 0 È buono Come il pane E dichiara Ricordandosi Delle sue origini Di slalomista In perterrito Qui pretenderebbe Il rigore Lì per lì Mi è parso Calcio di rigore Ovviamente Non vorrei Ecco Dirla per certa La cosa Dovrei rivederla In televisione Ma il pallone Non è stato toccato Sono stato chiuso In due in aria Di regola Dovrebbe essere il rigore Battistini Esprime il disagio Dei Nerazzurri Sentiamo che Appunto intorno a noi Non c'è Dei consensi positivi Quindi spesso Uno in campo Non riesce A esprimersi Al meglio Anche perché Appunto Credo che nel calcio Prescindere dai guadagni Tutti ci vuole Anche un po' Di tranquillità E spesso Questo può Pregiudicare Una buona prestazione Forse Forse se una squadra Doveva vincere Il Parma Almeno per quanto riguarda Le occasioni avute Nel corso del primo tempo Scala Ma direi Di sì Anche se non voglio Così andare a toccare Questo tasto Che è sempre pericoloso Io sono contento Di come si è espressa La squadra Abbiamo fatto un primo tempo Bello Dovevamo Abbiamo avuto le occasioni Per andare in vantaggio Però Accettiamo questo Questo pareggio Con grande tranquillità Derby della Madonnina Numero 213 14 punti Il divario in classifica Fra Milan e l'Inter Mai accaduto E dalla fine I rossoneri Si sentiranno più vicini Allo scudetto Al derby milanese Mancano soltanto Alcuni personaggi Eccellenti Come Matteus Gullit Ferri E Rossi I forzati del pallone Ci sono tutti Le galline di Pasqua Fanno le uova Con sorpresa finale Suarez Ha una squadra Tonica Inizialmente E il Milan A soffrire Il terreno E quello Delle grandi occasioni E Zenga Se ne accorge Berti Ha spunti invidiabili Mafiato Corto La difesa rossonera E costretta A recuperi affannosi Nella porta milanista C'è Antonioli Che ferma Intuffo Lo scatenato Desideri L'interista Pretende il rigore E forse Non ha tutti i torti Rivediamola Quest'azione Che porterà All'ammunizione Di Desideri Una munizione Che peserà Sull'andamento Della partita Rijkaard Sull'altro fronte Viene trascinato A terra Per la maglia Da Baggio Il difensore Agisce con Grande astuzia La partita È molto combattuta E l'Inter Riesce a imbrigliare Un Milan Che non trova spazio Non sono in gran giornata I rossoneri Ma vanno sempre in avanti Sia pure In maniera Prevedibile Sembra che lo 0-0 Sia inevitabile A questo punto Ma improvvisamente Ecco lo svolto Desideri La lotta La lotta Con l'innesto Non ha discusso nessuno Tempo fa Per dire una cosa Così Che mi sembrava Normale Logica Ho preso 10 milioni Di multa Non penso più Di aprire la voca Sugli arbitri Il capello Per la prima volta Parla di Scudetto Diciamo che adesso Siamo molto più tranquilli 6 punti 5 partite 10 disposizioni Siamo un po' più rilassati Puoi già dire La formazione del Milan Per il debutto In Copacampioni No Però dirò Quando la matematica Ci dà ragione A San Siro Una grande Inventus Un grande Baggio Ma soprattutto Un Inter In ginocchio Le dichiarazioni di Zenga A fine gara Avranno certamente Un seguito Ascoltiamole Beh la dimostrazione Che comunque Il trap Quando ha deciso Di andarcene da qua Si sarebbe dovuto Fare qualcosa di più Per tenerlo La gente fa bene La gente dovrebbe Non farci più uscire Allo stadio Quanto meno Chiedere la testa In blocco Di tutti i giocatori Non mi vergogno a dirlo Ma D'altronde Di questa squadra qua Che merita l'Inter Mi sembra che ce ne siano Forse nessuno Ci sarebbe molto da fare Molto Soprattutto A livello Di professionalità Di Di modo di interpretare Le partite Di modo di Di interpretare Una società Che si chiama Inter Io Non credo che Non mi sto chiamando fuori Assolutamente Perché mi ci metto io per primo Se Io l'ho già detto Un'altra volta E lo torno a ripetere Se qualcuno Se qualcuno Vuole la mia testa Io mi metto da parte Sicuramente In questo momento La mia grande Delusione Mi porterebbe anche A chiedere Di essere ceduto Da questa squadra Perché non vedo Come possa essere Non vedo più in là Di domenica prossima E questo è il guaio peggiore E non vedo sicuramente Una reazione Degna Da parte Dei miei compagni Già Tra pattoni Lo scudetto La coppa I ricordi Nel calcio Tuttavia Non c'è spazio Per la nostalgia La Juventus È una squadra vera Anche senza colà L'Inter Da tempo dimostra Limiti Ed essendo priva Di Matteus Non possiede Nemmeno la forza Necessaria Per promuovere Il gioco E per attaccare È molto ben messa Sul campo La Juve Invece Ed il palo Di Casiraghi Dà la netta Sensazione Che i nerazzurri Non abbiano Scampo Il primo gol Bianconero Nasce da questo Intervento di Bergomi Sull'effervescente Di Canio Un intervento Sul quale L'arbitro Non ha dubbi Gli interisti Forse si lamentano Per un complesso Di decisioni Sfavorevoli Baggio È un maestro Dagli 11 metri E per la verità C'è questa manata Di Julio Cesar Su Klinsman A indispettire Gli interisti Ma che dire Sulla manovra Bianconera Del secondo gol Baggio E Casiraghi Duettano Alla grande È un gran gol Che ha l'effetto Di un KO Per l'Inter Da parte loro I nerazzurri Non riescono A dar concretezza Nemmeno Alle occasioni Più propizie Suarez Nel secondo tempo Manda avanti La fanteria Ferri Cerca il gol Prima che Reuter Baggio E Schillaci Mettono in cantiere L'azione Della seconda rete Anche questa È una manovra Che mette a nudo Le carenze Degli interisti E l'abilità Alla fine Alla fine Alla fine del primo tempo Mi dava fastidio Allora Avevo chiesto al mister Così se Se avesse avuto ancora noia Di uscire Tutto qua Si sente il leader Della Juve? Ma io Lo sono sempre ripetuto Io in una squadra Non c'è un leader solo Ci sono dei grandi giocatori Che fanno una grande squadra L'Inter cerca a tutti i costi La conquista della zona UEFA Il Genoa smarrito Fra troppe polemiche Cerca almeno un riscatto morale Che cozza però Contro troppi ostacoli L'arbitro Ceccarini Ci mette del suo E il 2-1 finale A favore dei Nerazzurri Lascia una scia velenosa Qui l'Inter affida comunque Le sue chance europee Bagnoli è più in emergenza Di Suarez E non solo per problemi Di formazione Il pubblico rosso-blu Sembra appoggiare più i giocatori Meno allenatore e presidente I giocatori contraccambiano E partono molto bene Le premesse del riscatto Ci sono tutte Poi comincia la sagra Degli episodi contestati In area interista Scuravi ne fa le spese Più di tutti Poi toccherà anche a Branco Ma Ceccarini Non ha mai il minimo dubbio E il Ferrari Se già caldo di primavera Diventa bollente L'Inter Presa le misure al Genoa Si affaccia in area rosso-blu E per Gianluca Berti Che sostituisce Braglia Arrivano brividi trementi L'ex Fontolan Colpisce in pieno il paro Il tempo si chiude Con Branco Che piomba giù in area Ne ricaverà soltanto Una munizione per simulazione Il clima si fa torrido Ma Ceccarini Uno di quelli Della covata Benedetta da Casarin Non fa una piega La ripresa propone Un Genoa più tonico E l'Inter più guardinga Finché al quarto d'ora Una punizione di Bortolazzi Non trattenuta da Zenga Propizia la zampata Con cui Caricola Porta in vantaggio Il rosso-blu Un vantaggio Che non dura però Più di quattro minuti Nicola Berti Va giù in area Dopo un contrasto Con Caricola Ed è a rigore Pizzi tira bene Berti intuisce meglio Ma non ci arriva Il Ferrari Si ribolle di rabbia Poco più di un minuto E l'1-2 dell'Inter Tramortisce definitivamente Il Genoa Il nuovo entrato Orlando Fa la torre per Klisman Che questa volta Non sbaglia Saltano i nervi A molti Fuori campo E in campo Eranio e Battistini Vengono espulsi Dopo una grande mischia Davanti alla panchina interista Il tempo per Aguilera Di sprecare l'occasione Del pareggio E Ceccarini Regola i suoi conti personali Con Branco Cacciandolo Il Ferrari Se una polveriera Lo spogliatoio Con Bagnoli Suarez E Signorini È più tranquillo E in molti Si chiedevano Qual era lo stato d'animo Di Bagnoli Sul campo Di fronte all'Inter Con tutto quello che si dice Guardi ma Il risultato negativo Oggi non può farmi dire Determinate cose Ma io sicuramente Sono Sono contento Per la prestazione Dei miei giocatori Di come ha giocato il Genoa E il rammarico È quello che il Genoa ha perso Poi il resto Sono tutte chiacchiere Sono tutte Illazioni Che lasciano il tempo Che trovo Suarez Se lei oggi Si fosse trovato Al posto di Bagnoli In che stato d'animo Avrebbe affrontato Questa partita Beh sono situazioni Un po' Un po' delicata A me io penso Che lui l'avrà affrontato Serenamente Facendo il suo dovere Come l'ha fatto sempre In tutta la sua carriera D'allenatore Poi così È una coincidenza Che si sia trovato Di fronte A una squadra Che lui allenerà In futuro Ma che Capita anche Altri allenatori Non vedo così niente Se non lo rimarchiamo Più di tanto Penso che sia Una situazione Più o meno normale Si parlerà del nuovo allenatore Si parlerà della campagna acquisti Quindi Il campionato sta per terminare Non vediamo l'ora che finisca Perché Sto prendendo una brutta piena Dopo 17 anni consecutivi L'Inter rischia di non partecipare A una coppa europea A tradire in erazzurri Il campo nemico di San Siro Dove nelle ultime sei partite Hanno raccolto la miseria di tre punti Con due soli gol all'attivo Il cambio d'allenatore Il passaggio da Orrico a Suarez La zona prima E il modulo a uomo poi Tutte fisquilli e pinzillaccare Come direbbe Totò Perché quando i giocatori Non giocano O lo fanno male Alla fine i risultati non arrivano E le contestazioni Violenta e ormai consueta Quella al presidente Pellegrini Fioccano Oggi con la Cremonese Soltanto Bremer è riuscito A strappare applausi Come libero è stata una garanzia Anche forse per il futuro Per il resto Normale impegno Qualche occasione E troppi errori Berti spesso al posto giusto Con la mira sbagliata E approssimazione Guardate Klinsman Condino Baggi e desideri Smarriti e centrocampo E Ferri e Bergomi Non certo tranquilli Contro le accelerazioni grigiorosse Ecco il crollo interista Nella ripresa Con l'azione del plastico Gol di Dezzotti Ad ammutolire i tifosi Nerazzurri Proprio nella domenica Del trionfo milanista E ad esaltare i cremonesi Che non vincevano in trasferta Da 13 mesi Poi una traversa di Berti E in contropiede Dezzotti che spinge Zenga Al pallo Per trafiggerlo Nel rigore Del clamoroso 2-0 Ed ora Le lacrime di Suarez Le smorfie di Berti E la gioia di Dezzotti Purtroppo ripeto Non so cosa ci succede Qui Queste partite Non c'è verso di fare un gol Non c'è verso di Dopo che passa un po' la partita Siamo tutti come Come rassegnati Come Sì come Siamo come sicuri Che non va oltre Allo 0-0 Oggi Direi che Uno delle Tante parentesi Negative Di quest'annata È andato malissimo Vorrei trovare Una squadra di Serie A Prima di tutti E questo Il dirigente della Gremonese Lo sanno Tutto sommato Poteva andare peggio Da una parte il già retrocesso Bari Dall'altra quell'Inter Autoesclusasi dall'Europa Con il Karakiri Di sette giorni fa Alla Meazza Roba da correre al mare Più che allo stadio Certo Nessuno potrà dire Orgoglioso Cero anch'io Ma almeno Non dovrà negarlo Zili Boniek Accomiatandosi Dalla A E dal San Nicola Deve fare a meno di Plat Impegnato con la nazionale inglese Ma può contare Sullo straniero Che più di tutti Vivacizza la partita Nei primi minuti Iarmi Almeno fino a quando Suarez non chiude I corridoi Affidandoli al tamponamento Di Berti e Bianchi Desideri corre Con la maglia di Mateus Con Klisman Molto più avanzato Di Fontolan Su entrambi Strette e buone Le marcature Rispettivamente Di Loseto E Brambati Buona anche La parata di Zengas Una conclusione di Cucchi Molto bravo peraltro Nel dividere il lavoro Di copertura Centrocampo Con il solito Inesauribile Terracenere Quando Klisman E Bergomi Si fanno ammonire Per un rigore Che probabilmente c'è Ma che l'arbitro Cinciripini Non dà Si capisce Che l'Inter Forse una speranzella UEFA Ancora la coltiva Con la Roma Che già vince L'esigenza di forzare I tempi Viene premiata Allo scadere Del primo tempo Desideri E potente Sfortunato Nella bella conclusione Ma Bianchi E prontissimo A mettere dentro Il pallone Ribattuto dal palo Entrato nella ripresa Al posto di Giampaolo Il giovane Brogi Ce la mette tutta Pur di fare gol A Zenga Ma due zampate Consecutive Non sono sufficienti Pizzi E appena entrato Al posto di Fontolan Riesce anche a sbagliare Da dischetto Un rigore Concesso per farlo Di progno A succlismo Ma sa rifarsi Proprio allo scadere Di una partita Che le due squadre Concludono in dieci Per l'espulsione Di Loseto e Bren Bravo Stavolta Pizzi Nel trovare Quell'angolo Che la difesa Barese Peraltro Nulla fa Per chiuderli Luis Suarez Però Non ha il coraggio Di farsi Illusioni europee Per dire la verità Penso che noi Così Questa qualificazione Per la UEFA L'abbiamo perso Sempre al meazza Perché fuori Abbiamo fatto sempre Meno a Verona Risultati positivi Mentre che in casa Abbiamo perso Parecchie partite E pareggiate altrettanto Guardate il timer Del secondo tempo 41 minuti scarsi Di sterili pedate E poi l'invasione Liberatoria Walter Zenga Nudo alla meta E la caccia A un brandello Di San Siro Da portare a casa Come souvenir La verità È che i tifosi Interisti Non ne potevano più Adesso Sperano Che il futuro Sia migliore Già stanotte I sogni nerazzurri Saranno popolati Dai gol di Pancev Dalle prodezze Di Shalimov E dalle promesse Di Zama Anche contro L'Atalanta Si è ripetuta La maledizione Casalinga Nonostante Le buone intenzioni Di Orlando Frustrate Da uno Stromberg Al passo D'addio Breme Ha detto A Ofidersen Personalmente Ai tifosi Ferron È stato Molto bravo I bergamaschi Hanno esaltato Le virtù Di Zenga Pasciullo Per esempio Insomma Tanta buona volontà Poche idee E la solita Impotenza Offensiva Che ha reso L'attacco interista Uno degli ultimi Cinque del campionato Eppure Fontolan E Klinsmann Ci hanno provato Dovranno fare Un corso Di tiro a segno Orlandini In assenza di Canigia Ha mandato Un messaggio Minaccioso Al portiere interista Mentre Beppe Baresi Si è fatto L'ultima sgambata Sul prato Di San Siro Perrone Si è bevuta La difesa Dell'Inter Come fosse Un bicchier D'acqua fresca Ma Giorgi Che lascerà L'Atalanta Non è riuscito A vincere la partita Zenga Così si è offerto In olocausto Alla folla Come salvatore Della patria Arrivederci All'anno prossimo